Bene, buongiorno a tutti, naturalmente è un caroso e abituoso benvenuto Ernesto Franco, ci fa molto piacere averlo con noi oggi, anche perché sappiamo che ha difeso questo appuntamento da molte insidie e l'aspettavamo già l'anno scorso e quindi ci fa particolarmente piacere che sia riuscito a venire con noi. Tra l'altro alcuni di voi ricorderanno che già anni fa abbiamo avuto Ernesto Franco qui, ci ha fatto due bellissimi seminari su Borges, quindi in un certo senso i seminari di quest'anno continuano quello che speriamo, che sia una tradizione. Il nostro ospite di oggi ha diverse attività, diverse prece a suo anno. Vorrei ricordare intanto il lavoro editoriale, prima presso Marietti, poi Garzanti e poi Einaudi, che fra l'altro ha compiuto da poco 80 anni in Audi, non lui, sicuramente. Il posto benissimo. E quindi facciamo i nostri migliori auguri alla casa di Cilice, per un futuro che sia all'altezza nel suo passaggio. e ha una carica di cui non ricordo mai esattamente i termini, ma direttore editoriale generale o generale editoriale. E è anche un critico, infatti noi l'abbiamo sentito nelle sue viste di critico. Lui è un esperto della letteratura ispano-americana contemporanea, si è interessato a Borges, come sappiamo, ha curato un'antologia della letteratura fantastica, ha curato poi tutti i racconti per la playa di Cortázar, e sta preparando un meridiano dedicato a Octavio Pazzo. È anche scrittore, come vedete appunto ha molte attività, e vorrei ricordare innanzitutto un libro che a me è piaciuto molto, che è Isolario, con questa anche bellissima copertina. E nel 1999, tra l'altro, proprio per la sua attività di scrittore, ha vinto il Pialeggio con vite senza fine. Di recente è uscito un suo contributo, una raccolta di racconti. Ecco, quindi io non voglio portare via altro tempo, oggi e domani appunto Ernesto Franco ci parlerà delle forme del salto e delle sue forme, e volevo dire che il taglio dei suoi interventi, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, sarà per noi particolarmente interessante, proprio perché sarà sui due versanti, della teoria, della teoria literaria e della pratica editoriale, quindi insomma siamo molto contenti proprio per avere questa duplice e della prospettiva. E volevo anche ricordare altri incontri che abbiamo avuto qui alla scuola, diciamo che sono stati incontri molto diversi, ma che tutti insomma sono legati a questa riflessione che stiamo facendo, appunto sulle forme del salto, su cosa significa scrivere oggi, e ricordo ad esempio l'incontro con la d'Esta Jean, che partendo dai suoi studi di storica dell'arte, che non ha scritto questo romanzo sugli ultimi anni di Leonardo da Vinci, o l'incontro con Siri Ustret, che è una scrittrice che però è anche molto attenta, come dire, a mescolare fortemente la dimensione ovviamente narrativa, con una grande, profonda e appassionata esplorazione, appunto, dei saggi, del mondo scientifico, ma anche, diciamo, della saggistica romantistica. Quindi grazie ancora e vi ascoltiamo. Grazie. Dunque, sì, è così. Come diceva lì, non so, con la premessa che anch'io sono felicissimo di essere tornato con voi a raccontarvi un po' alcune cose di come l'organizzare così, di come può pensare necessario che lo faccia. In alcuni casi sarebbe meglio che lo faccia, in altri proprio non lo fa, un po' come pensa un editor, uno che fa il mio mestiere. Quindi oggi porrei un po' il tema e domani vi, magari anche con esempi molto concreti, con casi particolari, in momenti particolari di questi ultimi anni, vi racconto come a suo, a questo proposito, ragiona, tenta di ragionare un editore che è sempre messo in un flusso da cui deve, da una parte, come dire, abbandonarsi e a cui deve, dall'altra parte, fare invece costante, attenta, resistenza. Il titolo, c'è una piccola titolo del... Allora, quando ho dovuto scegliere il titolo, ne parlavamo con la fondina Bolzoni, mi sono appuntato alle forme del salto, poi dico, mamma mia, cosa pretendi, di parlare di un tema così grande, così esteso, sia cronologicamente, sia come persone, come saggisti, appunto, filosofi, letterati, romanzieri che ci hanno riflettuto, ma è il corso, niente poco di meno, che della storia occidentale. Quindi non è... Allora ho detto, cominciamo a pasticciare sul titolo e ho scritto male la F e mi è venuto Le orme del saggio, che invece è troppo sbarazzino, me ne rendo perfettamente conto. Lino ha avuto la clemenza di lasciare le due cose. Tuttavia, nelle orme c'è una prima... non è totalmente casuale, o forse è quella casualità, come dire, che ha una ragione interna. Cioè, il fatto di parlare di orme a proposito del saggio lo individua, secondo me, una caratteristica che poi, dentro la quale si può ragionare. L'orma è una, appunto, traccia che quindi è un oggetto, un segno storico. Questo per il saggio è perfetto per la definizione del saggio. È storico, voglio dire, non è uno universale. È una traccia lasciata da un soggetto che ha fatto un'esperienza, quel cammino lì, e non un altro cammino. È un frammento, non è un sistema, non è un concetto generale, non è un universale dentro, che vale per tutte le occasioni dell'esperienza, delle occasioni storiche, che vale per tutti i soggetti. È un frammento non completo. indica una, forse addirittura, una meta verso la quale si vuole arrivare, ma non è quella meta, non l'ha raggiunta, appunto. È un piccolo pezzo di un percorso, un percorso al quale accenna continuamente dall'inizio alla fine. Per questo Orma è una realtà che sta dentro, che stava dentro, all'appunto della forma, ha più che una ragione per venire fuori, appunto, per farsi vedere, per farsi seguire, diciamo. La mia intenzione era quella di partire da quella discussione sul che cos'è il saggio, appunto, che è un periodo molto definito di inizio del Novecento, fu molto viva, molto, ebbe molte cose su alcuni momenti di quella discussione, magari su alcuni saggi, sul saggio che vi citerò e che poi commenterò. Però, come dicevo, a mio parere, non si può scegliere, ma parto da qua perché mi va, parto da qua perché è particolarmente importante. No, è molto importante quel momento, ma non è il momento più importante in cui si è riflettuto su che cosa è il saggio. Voglio dire che bisogna essere, parto da lì, ma vorrei esporvi la consapevolezza che il saggio ha avuto appunto il lungo percorso all'interno della cultura a cui accettarmo. Un percorso lunghissimo e pericoloso per chi affronta questo tema, anche perché si legge subito in uno di questi saggi sul saggio, essenza e forma del saggio che è del 1910 di Lukács, che Platone, dice Lukács, è il più grande saggista che sia mai esistente. Ora, voi sapete che quando si inizia a Platone generalmente non si sa da dove si parte, non si sa che cosa è, non si sa dove si finisce, di solito, e il comico, il grottesco, voglio dire, dell'argomentazione lunga, parliamo da Platone nei giorni nostri, è veramente di Errolangolo. Però è vero che quella del saggio è una storia interminabile, con momenti che hanno caratteristiche affini di emergenza, di emergenza forte. Ci sono i momenti in cui il saggio come forma, di che cos'è il saggio, si parla, viene fuori, se ne discuta. Altri momenti in cui invece il saggio continua a essere presente come problema della cultura, ma è una presenza più carsica che attraverso non è mai assente, non se ne va mai via per poi riapparire. C'è sempre, in alcuni momenti emerge, emergenza in questo senso, emerge il problema in altri, non scompare, ma rimane sotto traccia. È una storia, se ci pensate, che attraversa tutti i generi, dalla poesia al romanzo, tutti i temi, le materie, gli oggetti di cui tratta, le discipline, i livelli della cultura, le stesse culture e le esperienze. Il saggio ne è in qualche modo ospite e le ospita e poi sposta la sua attenzione. È ospite dell'epistola classica. Marco Fumeroliia ha dedicato un bellissimo saggio al tema della conversazione come istituzione, come istituzione culturale, come culturale francese e dove cerca le radici della conversazione che è fatta di racconto appunto epigrammatica, riflessione, dialogo, eccetera, le cerca come stanno a quelli che che l'hanno che l'hanno che l'hanno vista che cerca proprio in montegne. La confessione a Maria Zambrano che ha dedicato un bellissimo saggio a che cos'è la confessione al genere della confessione la definisce negli altri modi come una lunga conversazione in cui si manifesta anche qui torniamo un secondo alle orme andremo avanti e indietro su questa cosa in cui si manifesta e dice il cratere frammentario della vita un lungo percorso una conversazione con se stessi con magari l'altro come succede nelle battute nei moti di spirito l'altro che sta a muto che sta ad ascoltare una lunga conversazione che per frammenti per silenzi per omissioni e per invece esposizioni segue il cratere frammentario della vita il ritratto il ritratto il ritratto è una forma di saggismo e qui mi fermo per non la 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 meditazione la meditazione e così via e come vedete tutti questi generi queste forme insomma il saggio attraverso tutte queste forme ci si colloca le provoca e le ospita allora per definire questa questa questo orizzonte mi accontenterei di usare Adou che in un libro molto bello sulla filosofia antica gli esercizi spirituali e filosofia antica scrive che nell'antichità la vera filosofia è esercizio spirituale e che l'esercizio spirituale è quel qualcosa che introduce un aspetto vissuto e soggettivo orme che non concorta con dei modelli formali di di spiegazione con dei modelli formali di sistemazione del sapere li si avvicina piuttosto invece qui rientra dalla finestra anche per Platone e ritorna il dialogo il dialogo che all'interno del quale avvengono delle cose e non altre non si tratta di esporre una dottrina nel dialogo ma di condurre un interlocutore a un determinato atteggiamento mentale sono tutti anche l'idea di atteggiamento è un concetto che tornerà è una lotta dice Adò amichevole ma reale anche con se stessi occorre far cambiare a se stessi il punto di vista l'atteggiamento la convinzione dunque dialogare con se stessi dunque dialogare dunque lotare con se stessi allora quello che voglio dire è che il saggio ricorda tutto ciò lungo il suo lungo percorso all'interno della cultura sa voglio dire in una parola sa continuamente sa qualsiasi erano le epoche e le stagioni gli autori i saggisti i temi gli oggetti affrontati sa di essere sempre per tutti gli autori un esercizio spirituale esattamente come lo intende Adò come lo intendeva la filosofia antica e con ciò detto questo abbiamo seduto con 2.000 anni di storia di cosa proviamo ritornare invece all'inizio del novecento ad una definizione anche qui procedo proprio per definizioni per approssimazioni perché appunto ci mancherebbe che ci fosse proprio per il saggio una definizione formale dentro la quale incasellarlo e definirlo una volta per tutte questo una volta per tutte non esiste nell'orizzonte concettuale del saggio ma ogni volta è un'altra volta in un frammento datato intorno al 1914 Moses vive saggio è in un campo in cui sia possibile procedere con esattezza qualcosa come un residuo oppure il massimo rigore raggiungibile in un campo in cui per appunto non sia possibile procedere con esattezza e secondo me questa è una delle definizioni più aperte e anche più esatte del saggio proprio per la sua complessità naturalmente all'interno di questa definizione resta da vedere come definire questi campi in cui è possibile procedere con esattezza o non è possibile procedere con esattezza diciamo in senso un po' generico generalissimo il campo della scienza in cui evidentemente visti i presupposti è possibile procedere con esattezza la verificabilità la prova l'esperimento e il campo dell'arte in cui non è possibile procedere con esattezza con quell'esattezza voglio dire naturalmente che è richiesta dalla scienza appunto l'esattezza come possiamo intendere come la verificabilità come come l'universalità dei concetti con i quali ci confrontiamo l'universalità indipendentemente appunto dalle forme e infine forse la cosa più importante che cos'è il residuo che cos'è questo residuo no? un campo in cui sia possibile procedere con esattezza il saggio è qualcosa con un residuo inevitabilmente il residuo è l'esperienza l'esperienza della conoscenza l'importanza del soggetto del dato temporale del dato storico che nel gioco che sta facendo o musil ovviamente è una cosa che fra mille virgolette con la scienza ha poco a travedere è un oggetto che dà fastidio che dà fastidio alla scienza ricordo una una frase di Magris in Danubio diceva sì questo affare ingombrante che non si sa mai come parlando del soggetto appunto del mio del mio mare di Dio che non si sa mai come come gestire certo è uno strumento molto comodo per poter raccontare le cose ovviamente questo è il classico atteggiamento di nonchalanza quando parla di quello che sta facendo però indica un tema un problema centrale che il saggista non può evitare anzi che generalmente tende ad usare a mettere al centro consapevole vedremo come della sua della sua la sua scrittura del suo percorso del suo tipo di ragionamento allora in quegli stessi anni più o meno siamo nel 19 Benjamin riflette come sapete sul concetto di critica nel romanticismo tedesco Benjamin osserva che l'idea del saggio è il termine che lui usa e con scrittiche in un momento osserva appunto il saggio della critica in un momento storico molto preciso il romanticismo tedesco che è ecco stiamo secondo me a quelli che sono visti giustamente come il momento in cui emerge nel discorso della cultura il problema del saggio il coso del saggio non sono veloci come Obama non riesco a dire che la cosa è un momento di svolta il primo romanticismo tedesco un momento di svolta ovviamente diciamo in maniera di nuovo generica un momento di crisi nel senso positivo di cambiamento dei valori rispetto ad un assetto precedente ed è esattamente un momento simile nel 1919 in cui Benjamin sta vivendo il momento diciamo sono gli anni dell'esplosione delle avanguardie quindi sono gli anni in cui e di nuovo lì viene fuori come tema di discussione che cosa fa che cosa ci serve ci serve o non ci serve il saggio non è un caso che ovviamente questa emergenza avvenga in questi momenti di passaggio di transizione scrive Benjamin potremmo citare mille passi ovviamente dipende di questo la critica è dunque per così dire un esperimento sull'opera d'arte nel quale viene destata la riflessione attraverso la quale l'opera viene portata alla coscienza e alla conoscenza di se stessa quindi la critica il saggio sta dentro sta dentro l'opera ma è come dire il presupposto dell'opera è una potenza dell'opera anche se non è sviluppato dall'opera sembra una sfera intermedia il saggio non è l'arte per Benjamin in qualche modo ne fa parte se non altro come potenza per darlo con un'immagine Benjamin cita Novalis che dice la recensione è il completamento del libro è un bello il tempo in cui la cultura cioè noi lettori consideravamo la recensione il completamento del libro aggiungo qualcosa di più certi libri non hanno bisogno di recensione perché l'autocomprensione la coscienza e la conoscenza sta già dentro il libro ma in alcuni casi non succede ma quella recensione quello loro con un sguardo critico è appunto una potenza che sta lì e che riflettendo genera in qualche modo la critica questo rapporto genealogico in qualche modo fa parte di un unico cammino poco prima diciamo nel 1910 c'è il il saggio di Lucas sul saggio che è un passaggio molto molto importante per dire una parola Lucas dice qualcosa di più dice qualcosa di più più vicino qualcosa di più radicale ancora cioè che il saggio è un'opera d'arte un'autonoma scrive insopprimibile rappresentazione formale di una vita propria e compiuta che cosa intende con ciò Lucas che il saggio ha verso la vita gli oggetti gli esperi l'esperienza lo stesso ecco che le parole ritornano e costituiscono una specie di bussola universale da un autore all'altro da una riflessione all'altra ha verso la vita lo stesso atteggiamento la stessa posizione lo stesso punto di vista che ha l'arte solo che c'è una grandissima differenza tra l'atteggiamento appunto dell'arte e il modo di spostare l'arte e quello del saggista per il saggista la realtà è la forma la forma complessa il già dato qualcosa di già già compiuto ed è per questo dice che per lo più sottolinea molto questo per lo più perché ha già detto che Platone è il più grande saggista di tutti i tempi quindi non può deve metterci a ritorno questo per lo più per lo più materia del saggio sono la letteratura e l'arte cioè forme già compiute complesse non dati attraverso cui l'artista crea e lo scienziato costruisce diciamo ma sono già opere dello scienziato sono già opere del pittore sono già opere dell'artista o dello scrittore e la forma è quella cosa scrive è quell'oggetto quel si è quell'oggetto è ciò che dedica i confini di ciò che è strano alla natura nel continuum della natura vuol dire l'arte crea una forma la scienza costruisce un oggetto il largigianito del saggio è quello per cui è quello per cui secondo Luca c'è appunto il dato primo il dato reale è già una forma complessa è una forma per l'appunto è non un dato semplice da ciò secondo lui nascono alcune alcuni caratteri fondamentali che anche questi attraversano le varie forme del saggio l'umorismo dice e l'ironia dei saggisti gravi è stato importantissimo perché è un atteggiamento nuovo che accomuna al di là degli oggetti al di là delle è un atteggiamento per l'appunto un come porsi nei confronti della scienza con cui si ha a che fare e della realtà di cui si fa esperienza e qui tutte e due sto pensando a D'Adorno al saggio di teori di velocità di quest'oggi si soffermano sul titolo che Montaigne titolo geniale titolo perfetto dà alla sua opera alla perfezione di quel di quel saggi che limita così con ironia con umorismo con distanza la definizione di ciò che va costruendo il saggista così lo descrive Lugas respinge le proprie ambizioni e le speranze che talvolta possono essere persino giunte al fondo delle cose perché egli può soltanto offrire spiegazioni di poesie altrui la fa Montaigne ma io che parlo delle cose che ho letto nel migliore dei casi può parlare dei propri concetti non pretende di più ma questo non pretendere dice Lugas significa che accetta con ironia questa pochezza l'eterna pochezza della mente che lavora sui fatti più profondi della vita e tende a metterla in risalto con ironica modestia questo è un tratto formale di grandissima importanza perché in realtà sottolinea dietro questa ironia ma è solo un saggio c'è una prova un pezzetto di un qualche cosa di più grosso che senz'altro c'è dice il saggista o forse ci sarà oppure meglio ancora qualcuno senz'altro ce l'ha però non io dietro questo atteggiamento ironico di istante c'è un continuo ininterrotto che attraverso l'epoca atteggiamento di come dire di critica di riflessione di scetticismo dei saperi compiuti e una volta per tutte accettati questa è una delle grandissime lezioni dell'atteggiamento saggistico e e per spiegare questo lui ci si soffra sul paradosso del retratto cioè il paradosso del retratto è esattamente il paradosso del saggista il paradosso del retratto è quello per cui accidenti questo retratto di Velázquez ci sembra somigliante ma somigliante a chi abbiamo mai visto quello che abbiamo esperienza dei volti che vengono ritrati riscordate la galleria di reali di velastri di questi mostri per il libro dite ah accidenti questo è sensato somigliante però noi non abbiamo il termine di paragone arriva arriva a noi attraverso questo ritratto che è somigliante la capacità del ritratista e quella del saggista di ridare a delle forme e a dei contenuti l'idea di una vita vissuta di una vita che ha una dimensione una collocazione storica e che rappresenta davvero qualche cosa che appartiene all'esperienza anche questa è una sensazione che arriva al lettore anche se non ha termini come dire di paragone veri non c'è una fotografia dell'infante di Spagna che possa come dire confermare questa impressione di c'è una intenzione di verità che arriva attraverso il ritratto fino a noi anche nel saggio si svolge una lotta per la verità in questo paragone che fa il paradosso dell'Italia e quello del saggio per dare corpo allo spirito vitale il libro all'interno del quale c'è il saggio di Lucas che il titolo è l'anima e le forme per dare corpo allo spirito vitale che qualcuno ha creduto un saggista di intuire in un uomo in un'epoca e in una forma da ciò discendono alcune alcune altre considerazioni che definiscono a mio parere la forma del saggio due saggi per esempio a differenza di quelli che sono due feta scientifici poniamo sullo stesso tema non possono essere virtualmente fate anche con le pinze certe cose assolute che dico in contraddizione fra di loro non possono essere contraddizioni fra di loro non possono uno non può neanche superare l'altro perché ciascuno proprio come la ritardista crea un mondo diverso dall'altro e questo stare a metà fra la scienza e l'opera d'arte che caratterizza il saggio e questa è una caratteristica propria del saggio rispetto a qualsiasi altra forma di scrittura riflessiva il saggio è frammentario dunque quel detatto lì che mi sembra vero quell'epoca lì questo mio modo di rappresentare questo oggetto questo oggetto della cultura che non pretende mai di essere la verità ultima questo è il saggio dentro il saggio questo è il termine che usa l'aspirazione l'aspirazione continua invece al sistema a raggiungere la verità ultima a raggiungere la definizione che non passa però mai oltre il fatto di essere appunto una aspirazione e Lucas definisce questa aspirazione una categoria ultima della vita fa un esempio per spiegarsi ancora meglio il saggista è uno Schopenhauer che scrive i suoi parerga per sempre ininterrottamente attendendo ininterrottamente l'avvento del suo mondo a loro l'opera presentazione del suo sistema definitivo è lo dice in una battuta ma rende l'idea il tipo perfetto del precursore il precursore è quello che non ha compiuto il castello inattaccabile ma è quello che ci arriva vicino voi potete immaginare quando lui dice che è un'aspirazione che è caratteristica del saggio ininterrotta che non è davvero un momento di passaggio per poi arrivare alla fine all'opera vera che ha Lucio Penhauer dai saggi appunto dei paragon parale pomera fino arrivare al mondo come volontà rappresentazione ma il saggista sta sempre lì non ci crede che esista l'opera che si chiama il mondo il sistema l'opera che si chiama il mondo come volontà e rappresentazione usa anzi quello scetticismo per cui dice sì qualche altro Schopenhauer ci arriverà però io no in realtà non è questo io gli serve appunto come oggetto rappresentazione dell'ironia perché il saggista non crede che esista il sistema definitivo anni dopo molti anni dopo siamo fra del 54 e del 58 Adorno riprende il tema in un saggio che lascia inedito per per il più tempo cioè il saggio come forma si pone appunto il tema anche per lui che in questo concorda con questa linea di interpretazione il saggio è una speculazione sui oggetti specifici e culturalmente già prefigurata però non è d'accordo con Luca cioè questo è importante sull'idea del saggio come opera d'arte mi sembra uno sminuire un può dire collocare in un angolo quella che è l'identità invece propria del del saggio scrive il saggio assomiglia a un'autonomia estetica accusata appunto facilmente di essere presa meramente in prestito dall'arte questo non funziona questo prezzo per cui si è come una poesia è in fondo da tale autonomia estera non si differenzia per il suo medium che sono i concetti sia per il suo pretendere ad una verità di perverza estetica adesso perverza estetica il saggio vuole arrivare ad una verità che in quanto tale valga valga al di là delle determinazioni particolari che cosa fa il saggio secondo ad un'autonomo cerca cerca questa verità cerca i contenuti di verità ma li considera storici cioè appartenenti alla storia dentro la storia non tirati fuori dalla storia non astratti in modo da essere validi al di là della direbbe un altro grande saggista spagnolo circostanza cerca questa verità all'interno del dato storico atteggiamento del saggio è quello scrive di radicalità nei confronti di qualsiasi radicalismo nell'astenersi a una riduzione a un unico principio nel porre l'accento sul particolare contraposto alla 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 totalità nel giocare sulla frammentarietà questo su insiste su questo tema questo dire sì ma tu sei poco perché ti occupi di un oggetto in un'epoca perché ti occupi di un frammento della realtà presuppone il fatto che appunto il concetto assoluto il sistema esiste che qualcuno da qualche parte possegga l'idea di un tutto che tutto tiene insieme il saggio invece dice non vuole distillare l'eterno del calunco quando piuttosto rendere eterno quest'ultimo che mi sembra di nuovo una dimensione perfetta del lavoro che che fa il saggio e torna di nuovo su Montegna su Montegna e sul titolo sulla bellezza sulla giustezza sulla perfezione del titolo dei saggi di Montegna e a reinterpreta quella che è la famosissima prima pagina paginetta proprio mezza pagina dei saggi di Montegna dove Montegna si sofferma sempre in modo ironico con la nonchalance nell'on dare importanza alle cose che si dicono perché si parla di un oggetto che riguarda me quindi figura di niente di niente dei signori che Montegna dice rivolgendoci al lettore rivolgendoci ai suoi cari guardate che in fondo è me stesso che ripingo così il lettore sono io stesso nella materia del mio libro non c'è ragione che tu spenda il tuo tempo su un argomento tanto fricolo questo modo di questo modo di incarnare l'idea della relatività della verità l'io non è l'io perché poi sono come dire a scuole l'empo dell'attenzione che si dedica a questo tipo di cose cioè basta fare un salto basta che io dica io io penso che no l'io è proprio come dire la rappresentazione la figura della relatività del sapere allora non basta che un giovane narratore si metta in testa di raccontare come vede lui in piazza dei cavalieri perché ciò significhi qualche cosa ci arriviamo fra un attimo naturalmente l'io questo non c'è la nassa di montagna dice ma io parlo di me cosa volete qui accanto al caminetto al focolare così però sa benissimo di affrontare invece i temi fondamentali della sua epoca e di quelle che l'hanno preceduta con questo incarna fa diventare personaggio ecco un concetto astratto che potremmo definire la relatività dei saperi e dei sistemi lo incarna dicendo io io sono la relatività io sono l'orma io sono il percorso storico sono importante perché dentro questo mio essere storico dentro un momento c'è un pezzo un frammento della verità che io penso non sia accessibile come metà ultima che tutto mi ritiene insieme al tuo documento è riferimento all'esperienza io i miei lettori se di me che vi parlo un argomento primo del vano figurato è riferimento a tutta la storia è questo il concetto fondamentale che la forma al saggio la semplice esperienza individuale io che racconta io che ti fa vedere il percorso attraverso cui mette insieme la configurazione altra parola centrale che è il saggio la più vicina quella con cui inizia la coscienza io sono Ernesto è a questa mediata si ritorno dall'esperienza onnicomprensiva dell'umanità storica ed è pure l'usione eccoci che arriviamo della società e dell'ideologia individualistiche ritenere che l'esperienza dell'umanità storica sia mediata e che l'immediato sia invece ciò che è specifico di ciascuno tutta la tv è questa roba tutto ciò che vediamo in tv o o o il meccanismo magari poi ne parliamo domani per non confondere il meccanismo del peer reading che che devasta internet è esattamente basato su questo concetto che l'immediato sia ciò che è specifico di ciascuno che l'immediato sia il mi piace sia la verità mentre non è altro che come dire l'indice l'asterisco messo sul cliente allora a questo punto diventa importante dato questo percorso se siamo d'accordo su questo concetto della frammentarietà della soggettività e della verità che però è accessibile attraverso il come dell'espressione come lo scrivo come lo metto insieme deve salvare in precisione ciò che la riduncia alla delimitazione perché questo percorso soggettivo non delimita come fa appunto la scienza diciamo mi occupo di questo il campo che disegno è questo ragioniamo all'interno di questo non facciamo arrivare dentro questo campo delle influenze degli atteggiamenti che vengono da fuori perché la verificabilità sta solo all'interno di ciò che definiamo a questo saggio rinuncia però dice beniamine questo era un maestro deve fare uno sforzo di precisione superiore al saggio non può essere la bella penna anche questo è un po' una cosa che entrambi entrambi i saggi chiariscono attenzione il saggio non è del zeliro non è la bella prosa non è un bello se ne frega nessuno se ne frega ma insomma non è quello il cuore della questione la coscienza della non identità che a partire dalla scienza fra esposizione e copra obbliga l'esposizione a fare infiniti sforzi è per questo che il saggio molto spesso ragiona su se stesso su che cosa è mentre parla degli oggetti di cui si occupa dell'opera d'arte del poema del romanzo il saggio continuamente stavo qui di una magra se a caso una qualsiasi pagina qualsiasi opera potrebbe essere citata all'interno di si stesso ha una continua riflessione su che cosa sta facendo su che cosa è proprio perché il momento dell'esposizione è centrale come tema e infine una cosa che io riporto di nuovo all'esercizio intellettuale allora lo condizioni negli anni 50 il saggio sceglie l'esperienza intellettuale come proprio modello che cos'è il saggio l'esperienza intellettuale l'esercizio dell'esperienza intellettuale così come la definiva all'inizio adò era proprio l'esercizio spirituale la scena della non l'esposizione di una dottrina ma la scena della conversazione quindi della condivisione del cambiamento come dire del sapere in dialogo configurazione quindi come da questo tipo di ragionamento viene fuori iniziatore come configurazione come campo di forze all'interno delle quali stanno gli oggetti e che va a questo campo di forze organizzato da un regista questo è il saggista il saggio è un campo di forze è adorno musicologo rigorosa arte dei passaggi come quella della musica con sempre presente questa intenzione utopistica utopistica in senso proprio cioè l'intenzione utopistica io ho un cammino so che non raggiungerò mai l'utopia so che non raggiungerò mai la meta e questo è il mio ininterrotto operare e ciò che mi caratterizza come saggista come uomo come esperienza come esperienza della realtà è un po' quell'aspirazione di cui di cui accennavo prima a proposito di Luca questo stare nel mezzo del cammino coscienti di una genealogia più che di un'origine e sicuri che la meta non c'era qualcuno ad un altro io no in questo senso l'idea di tentativo che c'è all'interno della parola saggio è proprio quella dell'utopia l'utopia come l'intenzione di contemporaneamente l'intenzione di fare centro nel versaglio finale e consapevolezza che ciò non c'è e ciò è fallibile e provviso che cosa definisce il saggio allora anche qui perché non può andare bene tu non vorrei dare l'impressione ma il saggio viene definito dall'unità del soggetto e dall'unità di teorie ed esperienze entrate nell'oggetto stesso è una forma di rigore che somiglia molto ai vincoli che si dà per esempio un narratore che è coerente che ci delude quando non è non tanto non è realistico non rappresenta la realtà ma quando non è coerente con i vincoli propri che si dà all'interno dell'opera in aggiunta il saggio ha un oggetto a differenza del narratore o dell'artista ha un oggetto che ha una coerenza interna io non posso non conoscere il più perfettamente possibile visto che il mio atteggiamento sarà quello di una configurazione senza limiti io non posso non conoscere filologicamente diciamo il mio oggetto perfettamente c'è una forma di unità che non può sfuggirmi se io sono un vero saggista altrimenti tutto si sgretola tutto diventa superficiale e senza senso e deve esserci come dire quell'unità la mia esperienza vale sì ma deve essere cosa più importante nella teoria perché altrimenti sono soltanto un impressionista e non è questo perché il saggista è il contrario di un impressionista i pericoli sui quali mio Dio poi i pericoli quindi detto tutto questo tutte queste belle cose non sanno però ci sono dei pericoli o no e li prendiamo tutti che bellezza mi sembra molto precisa il rettore di una parola che ha come dire una sfumatura etica che lo dico pensando la mancanza di responsabilità nei confronti dell'autorialità degli autori e dell'oggetto allora si è totalmente questo è il suo prima quando parlavo dell'unità dell'oggetto e l'unità di teoria e esperienza se uno è il responsabile cioè non conosce il proprio oggetto non usa tutti gli segmenti possibili per accedere in un senso totalmente il libro è totalmente svincolato non può veramente scegliere un percorso libero ma sceglie semplicemente un percorso irresponsabile quindi alla fine interessante interessante un percorso che non tende ad una sia pure storica verità però e questo è riconoscibile questa cosa è provabile in Italia questa sì che è provabile scientificamente se uno non ha responsabilità nei confronti del proprio oggetto altro pericolo definisce ed eccoci di nuovo arrivati la versatile superficialità di chi non tende per l'appunto alla conoscenza del soggetto ma usa c'è la con le biografie romandate adorno usa questa cosa parla di di cento la versatile superficialità di chi parla di persone e non di concetti non di idee cioè uno che mette in scena soltanto non per arrivare ad un'idea del mondo o ad un'idea del soggetto o ad un'idea delle cose ma soltanto per raccontare un aneddoto l'aneddoto fino a se stesso l'aneddoto mi serve come forma forma storica forma della vita c'era anche il punto Saint-Beuve quando parla di questa versatile superficialità che esagerano ovviamente anni 50 adorno bisogna collocare le cose anche storicamente perché allora quel punto questa versatile superficialità confonde il saggio con un prodotto commerciale nell'andazzo culturale della notabilità la trovo un'altra definizione di il dilettantismo a un terzo pericolo filosofico e anche qui che genera quello che chiama il gergo dell'autenticità nel quale le parole tremolano la promozione senza che però dicano che cosa le fa tremolare ecco il dilettantismo filosofico è proprio di nuovo la mancanza totale di arrescone quello a cui accendavo prima partiamo da platone e infine un'idea di musica che parla della pubblicistica quotidiana che che definisce non così con un'unica più forte di polemica ma secondo me con un'esattezza giusta quasi definitiva perché lui sostiene che rappresenta lo sfruttamento del saggio senza accrescere il suo tesoro di questo magari poi parliamo appunto domani quando si parla della declinazione e poi nell'editoria che è ovviamente in dialogo con la pubblicistica ma questa definizione di nuovo fotografa molto bene le due attività la pubblicistica che sfrutta il saggio magari appunto con bello stile riesce a metterla riesce a comunicare nel senso al nobile per carità riesce a comunicare bene e a divulgare bene ma rappresenta lo sfruttamento dei risultati cosa vuol dire perché mi piace questo perché consiglia il saggio come un percorso di ricerca il saggio va avanti la pubblicistica sta qua e ti racconta i territori c'è l'esploratore che è il saggio che va in un territorio che faceva un viaggio proprio una propria traccia una cosa va in un territorio che non si conosce e poi la pubblicistica è quella che lo racconta noi l'articolo repubblico dove volete che racconta quello che quell'altro ha fatto sfrutto quello che ho fatto ma il cammino di conoscenza è quello chiudo con con una citazione ancora da Musil che cos'è un saggista si chiede uno rite dentro il romanzo e trova secondo me quella che alla fine saggisticamente è una risposta precisa parlando dei saggisti dice il loro regno sta fra la religione e la scienza fra l'esempio e la dottrina fra l'amore intellettuale e la poesia sono santi con e senza religione e qualche volta sono semplicemente uomini con i voti in un'avventura grazie molti grazie penso che sicuramente ci saranno domande osservazioni e volevo dire tra l'altro che proprio in quest'aula l'anno scorso abbiamo fatto un seminario appunto sulla lettura con il dialogo e molte delle cose che tu dicevi effettivamente hanno a che fare con i modi dell'interpretazione e a proposito del fatto ad esempio che la saggistica storicamente attualmente attraversa diversi generi venivano in mente queste lettere di Siena e di Cilio che sono veramente straordinarie mettono bene in scena la lotta per l'interpretazione il modo di leggere tutti i testi e anche le cose che tu ricordavi di Fumaro lì sono molto interessanti di vista le pagine molto belle in cui lui fa vedere come a proposito dei ritrati delle immagini ci sono una serie di dialoghi che mettono in scena proprio la fatica e il piacere dell'interpretazione come dialogo come dialogo di fronte sia nei confronti dell'opera sia nei confronti del pubblico a cui si rivolge quindi effettivamente un altro tema molto importante che per noi che ci occupiamo di letteratura naturalmente è la question dello stile come si scrive come si scrive perché è chiaro che c'è il problema della comunicazione c'è il problema di questo anche parleremo domani di oggi che si usa il salvo il salvo il salvo il salvo il salvo e come dire da un lato ci sono come sappiamo dei salgisti diciamo che tendono a scrivere come il loro autore o a dimostrare che sono più bravi nel loro autore e qui secondo me appunto viene meno una dimensione appunto di dialogo di distacco di impegno di rigore che chiaramente l'idea non è mai quella di raggiungere l'isola di utopia però diciamo di controllare il percorso che tu cerchi di fare come diciamo queste sono solo alcune osservazioni ma mi sembra molto molto interessante questo percorso che ci ha delineato e che ci ripropone un problema che per noi è fondamentale in modo di interpretazione non di interesse sì io ecco la cosa che diceva un po' di rigore ci ho un po' insistito alla fine perché è molto ambigua allora no la necessità di rigore proprio in un momento in cui stabilisci che il tuo percorso invece è relativo è parziale allora quello perché tre di acco da cui sfumo perché sostanza non è più non è più il saggio ecco l'esempio sommo per tutti loro rimane Montegna proprio perché ha questo atteggiamento di assoluta non c'era nei confronti dei propri oggetti e del sapere chi ha o a cui accede ma è un ma è un atteggiamento naturalmente è un modo è una visione della cultura diciamo ma non è un'assenza della medesima o una per il posto di accessibilità immediata senza senza la scienza è uno strumento del santo voglio dire questo secondo me è molto importante non è sempre chiaro a chi scrive questo faccio da parte l'editore non è sempre chiaro a chi scrive oggi probabilmente non è chiaro o non deve essere chiaro ai lettori però questo poi è il tema appunto di domani si vede immediatamente la percezione della cosa insomma quando un libro trova le sue strade e quando non le trova domani le informazioni si posso ma tu qua due avrei due ciò che si immagina la professione del stadio che informa che si si alza sentiamo non è molto diverso appunto sulla forma saggio che supera le pratiche discorsive della filosofia come manipolazione di concetti quindi del saggio che ragiona diciamo di concreto l'esperienza che viene molto interessante storicamente perché penso che i grandi penesagristi hanno una chiave che supera appunto la grande tradizione della trattatistica che diavare ragione sul contempo per variare attraverso l'esperienza attraverso la storia attraverso la funzione di grande quella tradizione di pensiero diciamo che viene giunge diciamo alle spalle secondo problema è questo ovviamente un aneddoto forgiando adesso un periodo non un periodo tramonto e il decline di una resistenza della critica che parla sostanzialmente della fine storica della possibilità del genere saggistico perché questo si lega appunto al secondo problema perché le versioni della soggettività che si permette di dire io di manipolare l'esperienza di racionare sull'esperienza in realtà ovviamente ha bisogno presuppone un pubblico che la credi questo è l'altro problema che ha avuto in Italia che è vero che ha avuto le cevolezze che hanno rispettato quindi ecco secondo me è proprio questo in che modo il santo si invogge un pubblico appunto per dire la costruzione di una comunità emene sostanzialmente di una costruzione di un senso attraverso il dialogo mettiamola così e appunto se effettivamente volevo chiedere appunto a partire da questa provocazione che si trascina indietro da anni contro Luperini se effettivamente anche lei tiene o si possa ritenere davvero finita l'esperienza statistica Luperini insomma ha un altro tipo perché chi è il mio di un motivolo sovranco interiva soprattutto una stagione della statistica soprattutto di Italia dell'intellettualità italiana negli 67 anni Pasolini Calvino Colponi che scuola che riuscivano appunto a produrre del senso all'interno di una comunità Masta grazie eh sì è un un problema devo dire delle cose che non ho rovinato quello che devo dire domani no scherzo no io credo che come dire proprio per quello credo che sia importante per un editore non soltanto pubblicare quello che arriva ma cercare di capire le trasformazioni e le riformazioni della propria della propria cultura ok Calvino Povini Pasolini sono morti hanno finito la loro opera li possiamo considerare ma non è vero che con ciò finisce che con ciò è finita secondo me voglio dire un'interpretazione che vale quanto un'altra è finito il genere del saggio cioè finisce no deve trovare e è altrettanto vero che alcune discipline negli ultimi decenni attraverso un periodo di crisi che è una crisi proprio di autorefessione che cosa faccio e a chi parlo e a chi parlo verissimo questo è credo ci togli occhi di tutti e materialmente anche dell'editore che si pone questi problemi anche dal punto di vista passamente monetario naturalmente però io credo che invece ci siano delle trasformazioni importanti naturalmente non e che si debba guardare al mondo e cioè magari in Italia ci possono essere uno o due autori però per esempio nel mondo i narratori a cui narratori importanti sono anche dei saggisti notevoli cito uno per tutti tanto per ma se ne possono fare Jonathan Franzen l'autore delle delle interazioni o di libertà è secondo me un saggista streptoso David Foster Wallace era un saggista formidabile era un saggista formidabile allora io non credo che rispetto a quello che abbiamo detto stamattina il confronto con con il saggismo di un Calvino o di un Pasolini sia più alto definisco una stagione no credo che la forma si parli attraverso attraverso questi autori e non solo e non solo ecco mi sembra che che sia importante porsi il problema perché è importante che una come dire una disciplina un modo di scrittura che è determinante per l'evoluzione della civiltà non imploda in un come dire recinto in cui si accumulano non dico nozioni che sarebbe una cosa scolastica stupida ma informazioni no allora questo sarebbe veramente un problema c'è una frase che commenterò domani però la dice è molto lunga questo po' che appartiene appartiene al saggio la forza di essere anacronistico cioè di non soddisfare alle richieste del proprio tempo ma di trovare un percorso proprio che come dire il proprio tempo interpreta lì e poi lì il lettore lo trova il lettore il lettore aiutato dal buon editore diciamo lo trova il suo percorso non è che tutti i libri hanno la possibilità di vendere un milione di copie cioè quello che ha la possibilità di vendere dentro se stesso mille copie il buon editore ne fa vendere mille e una quello che ha dentro la possibilità di vendere cento milioni di copie il buon editore ne fa vendere cento milioni e una questo ma c'è un po' con te che riduce il lavoro dell'elettore però no sono davvero convinto non è possibile vivere nella codice ma se la società fosse diversa la cultura fosse diversa di tutti i libri tutto il mondo leggerebbe tu no non è vero certi libri anche come sono fatti per il lettore che richiedono esattamente il discorso del lettore che facevi prima per il lettore che chiamano in gioco hanno quel pubblico io penso che sia importante interrogarsi sul che cos'è la forma saggio perché quando se ne parla si capisce quanto quanto manchi quanto sia quanto sia importante per conoscere per conoscere il mondo il mondo e le cose perché così non si fa confusione con altre forme di scrittura che per lo saggio non hanno niente a che vedere e che magari quelle sì è giusto che siano come dire recintate in alcune aree di interesse e non in altre quello che a me interessa dell'idea di saggio che secondo me è una forma generale dell'attenzione mi faccio esagerare io non credo che ci sia davvero un lettore a cui non interessi la saggistica come ne stiamo parlando stamattina no? come diciamo già ma se tutti siamo interessati a farci raccontare una storia quindi i romanzi interessano tutti mi diceva saggio no io saggio non lo leggo ma tu sai che cosa è un saggio? beh sì generalmente parlano di un'altra cosa rispetto a quella di cui abbiamo parlato o abbiamo tentato di parlare questa mattina allora questo lavorare in questo senso qua sia dal punto di vista di chi scrive di chi saggi li scrive sia dal punto di vista di chi i saggi cerca di portarli nel mondo allora questo è fondamentale io credo in questa forma mi rega ma come mi rega in tanti altri luoghi insomma la sciatteria con cui invece la si dà come una nozione acquisita che non è ogni volta scopo ogni volta è un libro nuovo non esiste un saggio di letteratura non esiste un saggio d'arte esiste il libro di su ecco la preferenza che su un romanzo non puoi dire il libro di Giorno prende su la famiglia questo sì però se noi riconsideriamo cioè noi dobbiamo considerare voi dovete considerarvi come degli scrittori questo è quello che voglio dire questo rende particolarmente fecondo il pensiero e l'opera non è un supporre ah vabbè lo scrittore ah vabbè si mette a scrivere no è il cuore della cosa non per il poeta che lo diamo per scontato per occhio non per il romanziere che lo diamo per scontato per occhio non per il saggista allora interpretare la cosa e interpretarsi così secondo me può contribuire a cambiare le cose a proposito dell'anacronismo di cui parlavo cioè del coraggio di essere anacronisti di cui parlavo sì leggevo il libro Una stanza di Naudi quello che è uscito da un accordo di recente in cui diciamo Ciappaloni e Paranelli parlano della collana politica che misero su un periodo abbastanza limitato in cui loro appunto dicevano noi vogliamo andare in contropendenza rispetto a quello che era un po' invece l'idea che aveva per esempio il penitente di fare dei distant books cioè dei libri diciamo proprio che stessero sull'oggi ma in maniera proprio estrema invece loro cercavano un po' di fare dei libri che avessero un respiro maggiore che quindi valorizzassero proprio una saggistica che interessasse va bene a un tipo di lettore però anche se un valore sul lungo periodo in questo senso è un po' interessante vedere poi la cerniera appunto tra il lettore e chi fa opera di lettura e di decisione in una casa editrice quindi c'è questa riflessione sul disagio che può essere sempre presente poi anche diciamo all'interno delle scelte editoriali quindi c'è quando la professoressa la presentaria diceva che sia diciamo critico che editoriale cioè effettivamente poi c'è un po' un modo importante si gioca un po' in questo legame da tenere sempre presente cioè tra un editore che è sempre però cioè porta l'attenzione insomma un dibattito che ha alle spalle diciamo un profilo qui perché poi sempre in questo libro si parlavano anche si raccontavano anche certi processi decisionali alle nauti alle nauti c'erano c'era 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 figure c'era sempre il padre di Bobbio c'era quindi c'è mi interessa anche un po' stimolarne in questo senso cioè di questo rapporto sempre insomma infieri sempre sempre di essere sempre attivo per questo esperto questo è un tema importante quella collana di quella collana di viola non quella viola di pavere la viola ma però quello che dicono loro due è una cosa giusta che noi ce la ripetiamo sempre quando ci facciamo un libro cosiddetto di attualità è molto più sia anche a proposito degli 80 anni di Enauri si è parlato sui giornali dell'attualità buona dell'attualità cattiva quelle collane lì sono collane che non è scaldoloso chiudere a un bel momento nel senso che passa l'epoca passa il tema e finisce l'attenzione non sono libri che in questo momento stiamo facendo nei cascabili all'infinito stiamo riproponendo o ristampando ed è giusto che sia così perché Leinaudi è una cadetrice che si è sempre molto concepita come sporcata con la contemporaneità per certi aspetti con la contemporaneità che vive non come laurea biblioteca di qualcuno che dà ogni tanto un libro fondamentale e immortale questo anche lo facciamo in altri luoghi ma un'altra parte della cadetrice è una cadetrice che cerca di stare dentro il caduco della propria epoca perché questa è un indice di un ambiente interpretazione della vivacità tutti noi siamo fatti così ci sono certi libri che ci cambiano la testa e certi altri invece che ci servono per vivere il giorno la giornata per sapere delle cose quindi quelle collane quello già di lì è giusto interpretare in una maniera più profonda più prospettica possibile non fare proprio l'instant book mettere insieme quattro cose e pubblicarle in fretta se era questa la differenza che loro volevano avere con forse un po' generosamente con Feltrinelli però essere concepibili che quella parte lì finisce lì domani vi parlerò invece di un progetto editoriale che almeno come concezione è stato concepito in maniera ancora più problematica rispetto rispetto a questo tipo di problemi per quanto riguarda i decisori a me fa un po' impressione devo dire perché sì lo so ma non avevo la percezione vera stiamo pubblicando adesso i verbali dei famosi mercoledì degli anni 50 fino al 53 il famoso caso Fofi e così via allora a parte che è molto divertente cioè è divertente no è importante proprio come me legge il libro che li leggo con un foglietto accanto perché alcune idee reinterpretate con 50 anni e 60 anni dopo sono ancora buone ma che cosa non fa l'ora questo libro qua magari uno che hanno bocciato nel 51 un'idea di libro ma la cosa impressionante è che veramente ripeto lo sapevo però lì lo vedi in atto no è che c'è questo libro ci sono le intelligenze al titanio intorno c'è Calvino c'è Bobbio c'è Venturi chi c'è ancora Cantimorimo che commenta da Pido questo mi fa schifo questo fatelo finalmente siete decisi con delle cose sempre brillanti e sempre ripeto queste intelligenze al titanio intorno a un tavolo a volte sono tre a volte sono quattro a volte sono sette mica poi centomila era tutta gente come sono condizionati dall'epoca dove tu dici questi liberi no su certi dirsi di scudere l'infinito facciamo una traduzione di guerra e pace sì però facciamo una così e cosa altro tema lotte sindacali in urs dal 1918 al 1921 tutti d'accordo si fa domani è proprio un condizionamento l'opressione delle e dentro questo il fool spesso è in Audi proprio non legge nulla ma ha questo sentimento dell'editore che dice sì ok importantissimo in Polonia poi fondamentale facciamolo pure subito però facciamo anche il saggio si montegna o facciamo quelle altre cose ed è lì sono curiosi perché proprio vedi il muoversi delle farine e come ripeto questi uno dice io non sono io quello che parla si chiama appunto Calvino si chiama Venturi oppure Bobbio ecco e come sono condizionati poi dal contesto dentro il quale inevitabilmente una cadetrice che è un organismo vivente con tutti i limiti e con tutti i vantaggi che ha una cosa sta dentro la quale deve muoversi dalla quale deve difendersi come tutti noi dobbiamo stare qui per vivere e difendersi per non morire è proprio lo stesso meccanismo di un di un organismo vivente in questo caso è senza farne un elogio ma è una cosa specifica non è come un negozio non è come una finanziaria non è come un'impresa questo non è come una fondazione non deve essere come un'università perché le università devono fare il loro lavoro e farlo bene il più possibile e l'editore deve fare il suo lavoro e non confondersi questo è fondamentale proprio per quella idea di dialogo e di continuo guardarsi che hanno anche gli organismi non solo gli individui tutto questo discorso sull'editoria e sulla diciamo la pressione dell'epoca esercita sull'editoria ha un collegamento ammogliso con la forma del saggio mi piacerebbe tornare come in un certo senso bordo esterno dell'immaginario un punto di contatto con il mondo quella che sai vi chiama la worldliness del testo cioè l'idea che in un certo punto confini sempre con la realtà effettuale e non a caso Garvoli parlando proprio del problema della saggistica diceva non mi piace che mi chiamino critico scrittore anche lì ovviamente con il piace mi piaceva moltissimo però diceva mi piacerebbe essere chiamato critico scrittore editore cioè proprio nel momento in cui dice io vado a prendere le parole che lo scrittore lancia nell'assoluto e le riporto alla comunità degli uomini diciamo così al socioletto in qualche modo insomma mi piaceva sollecitare su questa idea del saggio come esterno perché è anche un po' l'esterno del testo inteso come pura forma cioè la saggistica è stata anche in qualche modo come dire un'alternativa al formalismo più esasperato più astratto dal punto di vista della storia della critica e in un certo senso è stata anche un po' all'esterno della forma del libro il saggio cioè forse la riemersione novecentesca questa è una mia ipotesi la domanda la riemersione novecentesca del saggio in un certo senso forse è anche legata al fatto che il libro come metafora del mondo nel novecento in qualche modo si spalda e allora il saggio diciamo rimette insieme i pezzi comunque si inserisce in questa in questa smagliatura diciamo della compattezza del libro sì per tante aspetti infatti quando dicevo che l'epoca in cui emerge la discussione sul saggio romanticismo per esempio prima del novecento l'epoca della guardia tutto si regolava il regime diciamo positivistico e non c'è una cosa che si affermi e allora riemerge di nuovo la discussione diventa importante di nuovo capire che cosa si sta facendo non che non ci sia un taglio in avanti c'è sempre però diventa il luogo cui andare quando si sgretola un fronte di valori e di saperi precedente diciamo questo questo è sicuramente vero ha a che fare sì quello che diceva Garboli è importante poi per lui valeva poi lui secondo me proprio questa cosa dell'editore se la sentiva molto forte insomma noi eravamo in pronta tanto per tornare a un termine per esempio a primo galleggio eravamo in pronta lì era un lavoro abbastanza simile come organizzare una rappresentazione pubblica l'editore del premio bioreggio in qualche modo non è perché dal suo caso è tutto e siamo sulla frontiera sul confine con il mondo il saggio come oggetto impuro che va a mischiarsi con la frammentarietà del mondo questo va bene sono tutte caratteristiche del saggio e dei motivi di emergenza storica successiva che ha avuto ma per salvaguardarlo non so come dire bisogna sempre riservarsi un ma ma il saggio non può soltanto parlare di persone il saggio deve arrivare tendere ad una verità di parvenza estetica ma deve fare una ricerca non può soltanto prendere come modello il dialogo l'esercizio spirituale l'esperienza intellettuale come la stessa cosa viene ridefinita con una diversa terminologia però è la stessa cosa dalla filosofia antica fino ai nostri giorni ma deve proprio per questo voglio dire è una forma un atteggiamento una scrittura sempre in pericolo in pericolo di cadere dall'altra parte di cadere nei pericoli che accennavo alla fine ecco deve esserci alla fine del saggio questa tensione verso una conoscenza verso una verità che sia una forma di responsabilità nei confronti del proprio oggetto e del proprio come del proprio scrivere ecco solo così può sfidare il disgregarsi della contemporaneità solo così può permettersi di sfidare parliamo della contemporaneità di oggi di sfidare la quantità di tempo infinito che dedichiamo alla rete non noi qua voglio dire che io non sto parlando di attenzione fuori attenzione perché soprattutto io non sono un nostalgico di niente ma la quantità di tempo è quella l'unica cosa che veramente rimane identica a ieri è la quantità di tempo che tutti noi abbiamo da vivere e della giornata che abbiamo quindi quella cosa lì si riempie di un sacco di altri stimoli molto accessibili molto frequentabili allora il tempo è sempre più invaso e il saggio deve avere un'intenzione una forza ancora più potente non deve mai accontentarsi di se stesso va bene essere la forza del mondo ma dentro quel mondo deve cercare un frammento di verità altrimenti viene come dire che è piallato dalla quantità di tutto dalla quantità non dalla quantità ma dalla qualità di tutto il resto di informazioni a cui abbiamo possibilità di accesso ma io direi che va bene così grazie poi ci abbiamo anche domani sì sì adesso cosa dirò domani grazie 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 allora ieri abbiamo sentito appunto questo bellissimo percorso attraverso alcuni dei momenti più interessanti della riflessione novecentesca sul saggio sullo stile del saggio sul significato del saggio e già ieri diciamo nella discussione come potremmo aspettare siamo passati poi a oggi dei Naui cosa fa cosa ha fatto nel passato e quindi oggi continueremo su questa linea naturalmente poi nella discussione si potrà se vogliamo ritornare ad alcuni dei temi di ieri e approfitto per ringraziare ancora davvero questo Franco per essere qua con noi grazie buongiorno allora come è promesso sì continuiamo in realtà ciò che abbiamo insieme iniziato ieri nella conversazione insomma partendo dal fatto cercando di unire insomma i due discorsi se come dicevamo ieri il saggio come forma la discussione su che cosa è perché c'è come si fa ha una ricorrente dicevamo nel momento del primo romanticismo come le Benjamin la discussione di Lukac e poi ripresa dall'adorno il primo novecento a dei momenti di emergenza culturale non è penso che sia utile insomma tanto per confrontarci capire perché la cosa debba interessare un mestiere che può apparire molto tecnico come quello dell'editore ma così in realtà non è cioè perché una cosa un problema del genere emerge oggi in questo momento della cultura italiana e non solo italiana per la verità perché a un riguardo internazionale la cosa tocca anche culture più o meno vicine a noi curando e commentando questo dibattito con questa discussione intorno appunto che cos'è il 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 saggio Paolo Collega aveva utilizzato un po' di anni fa in un bel libro antologico sul tema una lunghissima citazione da Swag che era il mondo di ieri dove già diceva ma adesso vi raccolto vi raccolto cos'era il mondo di ieri il mondo di ieri è quello prima della prima guerra della prima guerra mondiale è il mondo della sicurezza ma non soltanto la sicurezza come dire dei concetti dei valori e dei valori culturali è la sicurezza complessiva della società si sapeva le famiglie sapevano cosa succede i capi famiglie sapevano cosa succedeva nel corso della loro carriera quali saranno state le date delle promozioni e delle cose si sapeva quanto valeva la moneta si sapeva che se si aveva per caso una piccola casa quella poteva passare da una generazione da una generazione all'altra disegna in sostanza un sintetico ritratto di quella che è la sicurezza non soltanto però dal punto di vista della conoscenza non soltanto dal punto di vista dei saperi acquisiti ma una sicurezza dei punti di differimento solidi che non vuol dire che non siano discutibili che vuol dire che sono ma l'opera determinano costruiscono accompagnano la vita quotidiana la vita quotidiana delle persone tutto questo ebbene anche nel messaggio per esempio sul narratore importantissimo parte proprio da questa considerazione della prima guerra mondiale cambia l'idea dell'uomo cambia l'idea dell'uomo e dei modi in cui l'uomo si può raccontare in questo caso lì appunto della narrazione di che cos'era la narrazione finita l'epoca della narrazione perché il narratore mondiale aveva cancellato l'idea della possibilità di esperienza e nasce il romanzo come finzione ora se a questo ritratto della sicurezza dell'altro ieri insisto gli essero gli elementi di circostanza il senso di quel brano lì che racconta la sicurezza contro la massima incertezza contemporanea e contemporanea che scriveva sarebbe perfettamente adattabile al tempo presente nell'epoca della sicurezza ci sono in linea di massima sono stati sia all'ordine dei valori che quello dei saperi si sa quello che si vuole sapere ma soprattutto si sa come saperlo dopo tutto cambia tutto si va ridefinendo si vive un periodo più o meno lungo di incertezza sullo sfondo dello svalire dei punti di riferimento questo era il quadro che del primo novecento che rifletteva sul loro pensiero ora qui ho scritto un editore che è una definizione un po' troppo alta diciamo un editore che lavora nella contemporaneità come dicevamo ieri dei naudizi è sempre pensata non come un ritratto fisso ma come un'academia dice che sta dentro il movimento del proprio tempo che ne prova e ne sa si sporca con il proprio tempo ne sa già tutte le possibilità e le avventure allora un editore critico in questo senso sta in mezzo a queste mutazioni deve pensa che un suo compito sia quello di renderne conto innanzitutto perché il suo mestiere lo porta a cercare di capire la cultura del proprio testo deve farlo deve farlo per fare quello che fa ma anche perché con la sua azienda è un editore uno che deve tenere in piedi un'azienda che in questo senso quanto azienda usa il termine non a caso ha una forte responsabilità sociale anche indipendentemente da quanti dipendenti o persone passano a riferimento per l'azienda quello per l'editore è un elemento importantissimo deve cercare quindi di non avere una soltanto una visione settoriale questo va questo non va per me che va la rombata è totalmente indifferente faccio l'uno o l'altro a seconda di come va il tempo ma deve avere invece una consapevolezza il più generale possibile della società deve avere una presunzione mi rendo conto che è una presunzione la rinuncio in quanto tale è quella di provocare la cultura del proprio tempo è una grande presunzione è un grande compito che uno si autoattribuisce magari poi non è in grado di non è all'altezza del compito ma deve provare a farlo perché altrimenti gli rimane solo l'astuzia di adeguarsi al proprio tempo e questa piccola astuzia come già un po' accettavamo ieri quando dicevo i quattro campi che entrano nel gioco contemporaneamente nel giudizio di valore che da un editore questa astuzia non basta non siamo dopo la prima guerra mondiale non c'è un cambiamento del genere ovviamente ma le mutazioni che si succedono secondo me da un quindicenne da questa parte con una rapidità fatemelo dire con una parola dove ci intendiamo con una rapidità digitale difficilmente controllabile dai singoli comportano hanno comportato ci investono con un disorientamento con cui bisogna fare i conti e è un diritto deve fare i conti deve far tornare i conti con l'ingegno nel senso in cui si dice sulla parola opere dell'ingegno con l'ingegno degli altri cosa voglio dire voglio dire che quando le opere del pensiero o dell'immaginazione un saggio di cui parlavamo ieri ma anche a Romano anche racconti non riescono ad arrivare a raggiungere a interpretare a provocare quella società che sta che sta mutando in quel modo non riescono ad arrivare alle nuove generazioni in molti modi non riesco a far arrivare uno dei tanti dibattiti che sono stati e non riesco a far arrivare un classico le nuove generazioni questo è un problema grosso è un problema grave non soltanto non riesco a far arrivare la letteratura contemporanea alle nuove generazioni in un senso non solo non riesco a far arrivare le riflessioni e i saggi che si stanno facendo ora alle nuove generazioni allora per un editore può essere un drammatico problema anche qui c'è l'aspetto come dire limitato definito circoscritto che però è sintomo di un problema molto più grande nel parere cioè per un editore può essere anche un soltanto fra virgolette un drammatico problema di sopravvivenza della sua impresa della sua azienda non riesco non ve lo più chiudo riduciamo la funzione dell'editore a quella proprio del piccolo o grande imprenditore però è chiaro che questo sintomo per l'editore è quella cosa di diventare un problema enorme ben più ampio di ricerca di senso di perdita di senso di identità da parte della cultura dentro la quale l'editore è inserito non come una fabbrica di lampadine elettiche ma come una soggettività che deve essere in grado di avere una visione più ampia stringiamo ancora di più l'obiettivo in questi ultimi anni ci sono delle tendenze molto problematiche da una parte sto parlando in generale e in particolare non sto parlando della normale di Pisa l'università e tutto l'universo della formazione che sembrano richiedere costantemente continuamente libri concepiti come rassegne panorami informativi riassuntivi persino di saperi negli settori disciplinari Bedecca di territori molto molto delimitati in cui io non metto il lavoro del santo ma come dicevamo ieri metto il lavoro neanche quello della notizia ma quello dell'informazione finitoso funziona benissimo ma è un'altra ma è un'altra cosa anzi è un lavoro che presuppone una situazione della cultura statica satura delle conoscenze e dei saperi il contrario del saggio come l'abbiamo descritto ieri il saggio si trova male intorno il saggio sa già quelle cose già informato e non non dialoga con questo tipo di con questo tipo di libro con questo tipo di ricerca è un atteggiamento che presuppone una visione generale molto pericolosa dice la ricerca è finita quanto c'è da sapere si sa e quel che resta da fare è informare è informare dare informazioni dire ma qua c'è un arsetto un riassunto una sintesi niente di critico come si diceva ieri il saggio dell'espressione del pensiero critico per eccellenza anzi un pensiero critico interminabile infinito un pensiero critico che non è che si autocompiaci o si autosoddisfa ma si dà come interminabile come un dicevamo frammento del percorso verso un magari anche Luca parlava dell'aspirazione come dicevamo ieri altri parlavano di una di una caratteristica utopica insita nel senso che non raggiunge ma in lamenta insita nel modo di procedere della scrittura del saggio che cosa succede come reazione complementare a questo se in parte almeno è vera questo fenomeno diciamo della scrittura la ricerca si arrocca la ricerca si arrocca proprio anche come come reazione una giusta reazione per cui no ma io esisto e non mi va questo stato delle cose si arrocca in chiudendosi però chiudendo non rischiando si arrocca per dirgli una parola nel proprio oggetto si arrocca nel proprio gergo e si arrocca in forme che non sono aperte cioè non sono arrischiate non si mettono in gioco non sono aperte nel senso della scrittura e dei concetti non basta questo per descrivere ovviamente quello che sta accadendo soprattutto man mano che le generazioni si succedono che cosa avviene quello che facciamo tutti una frequentazione massiccia della rete no? e questo di nuovo come dire è un caso di fatto come dire piove non è possibile entrare in questa massiccia frequentazione però solo all'opera due meccanismi in cui combinato disposto a mio parere è micidiale per la scienza critica per la non cultura ma per la colpura della curiosità micidiale il peer reading la cui espressione emblematica ma poi anche concreta la reazione immediata che provoca che viene che viene stimolata da diversi punti della rete è l'inarticolato che funziona molto bene risolve in termini di tempo soddisfa gratifica persino e l'inarticolato piace ora questo non mi piace non è solo non va non è che sia pericoloso soltanto perché vabbè ma come ti finisci lì non articoli non mi dici perché il meccanismo del pensiero critico ma questo mi piace siccome i padroni della rete esistono e non è un luogo di libertà ma è un luogo di gestione del potere in maniera come dire sotterranea impercepibile non chiara a tutti i frequentatori della rete può essere chiara a noi può essere chiara in questa stanza ma non è affatto chiara a tutti coloro che usano e hanno la libertà di accedere alla rete tutti questi mi piace sono indici che vanno informazioni preziosissime che vanno ai signori del marketing questo è dato il fatto tutte gravi signorette no? tranne le informazioni sul profilo di noi che andiamo a vedere diciamo quello del libro mi compro magari quella cosa Amazon con cui io come editore devo continuamente confrontarmi ed è un'ottima cosa soprattutto per un certo tipo di libro un canale formidabile ma si rifiuta di dare all'editore i dati sul quanto sul chi chi sono questi lettori che vanno a comprare quello non li dà per nulla offre gratis promozione tutto meraviglioso però su quel dettaglio si ferma perché su quel dettaglio si ferma perché è su quello che organizza tutto il suo ampio meccanismo che non si ferma e gli impianzi di cui i libri sono un piccolo cicalino come dire di seduzione di interesse per disegnare poi il profilo di quello che non è più né un cittadino né un lettore ma un mero cliente questo siamo noi in rete cosa com'è il meccanismo è un meccanismo di conferma mi piace ci sono degli studi addirittura sull'estremismo in rete sull'alimentazione dell'estremismo in rete basato sul meccanismo per cui il mi piace viene sempre confermato ovviamente ti piace questo allora ti piace questo libro ti piace questa manifestazione ti piace questo artista ti piace questa cosa non ti faccio vedere la panoramica delle altre guarda come va sul mondo guarda come è bello conoscere io ti faccio vedere ti informo continuamente di cose simili di cose che tu se hai comprato quello comprerai questo questo è un meccanismo agghiacciante noi ne veniamo fuori e siamo considerati non ripeto come cittadino come coscienza critica ma come un cliente globale che lo vogliamo o no che ne siamo consapevoli e superiori o no però di questo di questo si tratta ovviamente ci si può difendere ci si può orientare tutto ma bisogna tenere conto che da oggi si nasce per quelli che nascono oggi nascono con questo regime diciamo nel duplice significato l'editore che cosa coglie che cosa deve cogliere da tutto questo che le discipline entrano alcune discipline in modo particolare entrano in una crisi di fondo discipline che soltanto l'altro ieri avevano una ricezione amplissima e problematica perdono i propri interlocutori spariscono in certi settori ma non sono settori disciplinari spariscono poi vi faccio un esempio concreto tanto per capirci spariscono i lettori voi capite che per l'editore imprenditore questo è un problema come ripeto concretissimo da una parte e dall'altra però gli dà la spia di vedere che cosa diavolo sta succedendo noi dà ed ecco l'esempio concreto anche vedendo semplicemente le classifiche dei libri famosi libri che un edizore deve naturalmente vedere tutti i giorni e tutte queste cose da tre o quattro anni a sta parte quella che in maniera inappropriata banale ma tanto per intenderci gli editori fra loro definiscono come la la narrativa letteraria cioè diciamo quelle in cui latamente in maniera molto non specifica non critica ma in maniera molto lata insomma si riconoscono dei valori letterari scompare scompare dalle questioni ma non come sempre come ieri non succedeva stiamo parlando di 4 o 5 anni fa Philip Roth vogliamo di accettare questo nome come un esempio diciamo fino all'altro ieri era aveva un esercito di lettori che lo seguivano da tre o quattro anni a questa parte in maniera verticale e vertiginosa perde il suo lettorato quindi è bravo ha detto che non scrive più no anche se scrivesse diciamo entrano e forse sarà il periodo la crisi la necessità di come dire autoconsolazione che ha chi come diceva Schweitzer non ha più della propria vita una percezione minima di sicurezza di nessun aspetto la letteratura di intrattenimento bazza e devasta ogni cosa devasta voglio dire occupa ogni cosa va benissimo la letteratura di intrattenimento quello che mi preoccupa è la l'assoluta presenza di una cosa non insieme all'altra come dicevo ieri ci sono libri che dentro di sé hanno un milione di coppie e libri che hanno dentro di sé centinaia di coppie il compito del editore è aggiungere una coppia a ciò che il libro ha dentro sé stesso come potenzialità non è un'ingenuità pensare che se fosse un paese diverso che se l'editore facesse bene il suo mestiere tutti i libri vendono un milione di coppie è ovviamente un'ingenuità che non va pensata però il fatto che ci sia questo verticale cambiamento è una cosa che balza agli occhi un altro sintomo che riguarda decisamente no che riguarda sia la narrazione il romanzo ma anche la saggistica la traducibilità un altro sintomo della chiusura voglio dire della reazione a questo stato di cose della reazione come chiusura il momento della traducibilità è un momento di confronto questo è una cosa che viene gestita molto tecnicamente se volete tutti i giorni attraverso le mail con degli appuntamenti che sono più o meno importanti la fiera di Francoforte tanto per città ne è uno allora anche lì il sintomo non il ragionamento sul fenomeno non la discussione neanche su una cosa però semplicemente in un'attività quotidiana cosa si nota si nota che rispetto a noi gli anglosassoni oppure anche in Francia abbiano una tradizione di traduzione paragonabile alla nostra però insomma un certo interesse e una certa divinità c'è sempre anche lì la chiusura con frasi del tutto banali e superfici finché volete il signore dei diritti che arrivano a questo terribile frase ce l'abbiamo anche noi è una cosa angosciante su un libro avere una reazione da parte di un editore straniero che dice una cosa una cosa del genere oppure troppo italiano ecco è un'altra cosa che abitualmente ovviamente sono frasi con cui ci si intende non si dicono nulla anzi sono terribili però questo avviene questo però se elaborato se elaborato a questa banalità quotidiana se elaborato lo deve far pensare deve dire ma io dove devo cercare io come editore io dove devo cercare cosa devo dire ai miei autori cosa devo provare a ascoltarli di quello che loro mi dicono dove devo cercare di spingermi discussioni che si fanno su ogni progetto su ogni libro e su ogni e su ogni pensiero c'è una differenza in realtà per cui anche qui la differenza tra i paesi storici dove viene dove si spoglie l'editoria importante l'America l'Inghilterra la Germania la Francia l'Italia è una cosa i paesi emergenti traducono o hanno iniziato a tradurre molti uno dei paesi più che traduce di più è la Corea che è impressionante e traduce non ripeto cose di secondaria importanza o cose di cerchiamo di indicare prima rassegne informative su quello che avviene no traduce i saggi diciamo davvero traduce i libri che portano non informazione ma anche una prova di conoscenza allora l'editore è messo a percepire questi segnali semplici sono segnali preoccupanti magari ma sono segnali semplici che deve interpretare e lavorare per trasformare il proprio mestiere e incidere ricordavo anche ieri la frase che anche questa andrebbe scolpita di Calvino che diceva ma io faccio questo mestiere qua mi occupo dei libri degli altri perché mi interessa che la cultura del mio tempo nel mio paese sia in un modo e non in un altro un modo molto semplice per sottolineare invece un impegno non comune automaticamente dentro il mestiere dell'editore allora che cosa cerca di fare l'editore provo a mostrarlo con una considerazione generale e con tre esempi di Collana o di serie diciamo che valgono naturalmente in quanto esempi perché parlo delle Collane per mostrarvi non una cosa tecnica la Collana è una delle prime forme in cui un editore come macchina complessa come organismo plurimo di intelligenza che lavorano ad un mestiere è uno degli strumenti con cui ragiona è una forma dentro la quale in realtà nella concretezza del mestiere che prevede di inserire un titolo piuttosto di un altro prova a pensare al di là di quella che è una specialità come avete detto in questi giornali sui giornali delle Navi che è per l'appunto chiamata eronicamente da tutti noi e dagli autori così la famosa Collanologia per cui questo può anche aprire discussioni infinite di un sofistico di cui alla fine si perde perfino il senso delle cose che tu stesso dici in queste discussioni però di fatto atteniamoci al lato buono della cosa la Collana è un oggetto un oggetto concettuale e poi concreto come sempre nel nostro mestiere attraverso cui l'editore prova a pensare allora possono convincere o non convincere naturalmente i risultati ma quello che è importante in questi casi è discutere l'intenzione ovviamente l'intenzione di questo pensiero l'intenzione di questo progetto la Collana come l'editore io in generale io credo non non va giudicata per il singolo libro perché la contraddizione si trova ad ogni passo eh sì tu dici questo però poi dentro c'è quel libro lì che non corrisponde al pensiero ma come come intenzione allora questa relazione generale con il singolo autore è venuto fuori ieri in realtà poi nella discussione che abbiamo fatto l'editore si pone innanzitutto accanto all'autore siccome forse accanto all'autore vuol dire una cosa molto molto precisa in tempi in cui si parla che i libri si scrivono agli altri in cui c'è una mitologia dell'editing sulla quale poi se volete possiamo tornare che vede l'intervento dell'editore in maniera molto greve pesante e l'editore a mio parere deve fare tutta altra cosa cioè deve essere accanto all'autore cioè quel modo banale che vediamo sulle copertine di tanti libri non facciamo più caso a cura di ecco un editore deve aver cura dell'autore deve aver cura del progetto dell'autore che significa operare in tutti i modi che ha a disposizione per far emergere quello che dentro il progetto dell'autore dentro la testa dell'autore dentro il libro dell'autore c'è come potenza c'è come ricchezza diciamo la vertura dell'autore per quello che riguarda i classici significa ritornare come dire a curarli non come un dato di fatto acquisito ma come dire come piccole o grandi pietre di un giardino che vanno curate una per una con lo spazzolino ogni volta ogni volta bisogna ritornare a pensare il discorso a cui accendiamo prima perché i classici non arrivano o questo classico non arriva più come dovrebbe per la ricchezza che è per il nuovo che continuamente rappresenta a una generazione dei lettori non deve dar nulla per scontato deve discussione ancora queste e questi giorni provare per esempio stiamo parlando di traduzione deve provare a dire ma devo ritradurla non è una sciocchezza esempio di modo anche qua concreto per intenderci le Naudi fino a ieri e il economico del lettore andava benissimo 5.000 copie vendute all'anno da 80 anni aveva un delitto castigo di Lussoieschi che aveva una traduzione di 80 anni fa perché in Audi l'aveva presa da un altro lettore che funzionava benissimo lo lascio lì però quell'italiano non funziona più non è l'italiano non è la lingua dell'opera d'arte che ha una ricchezza inesauribile che ogni volta da interpretare che ogni volta ha un avvicinamento era un italiano del vero semplicemente e stiamo parlando di una lingua di servizio c'è questo paradosso che diceva Marias che è il paradosso insito nell'idea di traduzione ovviamente chi legge in originale man mano che passano gli anni decenni le cose avrà il testo sempre più lontano inevitabilmente di la funzione fondamentale dell'interpretazione della scuola della formazione che ti deve far arrivare a chi là chi legge in traduzione poniamo da Soieschi che non credo tutti noi abbiamo l'interruzzo e tutto qua chi legge in traduzione perde una marea di cose inevitabilmente senza rimedio ha un unico piccolo vantaggio di avere quell'autore lì sempre più vicino alla propria lingua perché ogni volta se si fa un lavoro con un senso se ogni generazione idealmente si ritraduce si ritraduce quel testo si ritraduce il classico un esempio ancora più clamoroso Giovane Holden Giovane Holden grandissimo successo delle Naudi dove c'è il Giovane Holden che è l'incarnazione dello spirito di ribellione delle nuove generazioni non può parlare con i modi stiamo parlando tutti di traduzioni eccellenti non è che sto parlando in una cattiva traduzione bisogna fare così ovvio il Giovane Holden può parlare con la lingua del nonno perché non funziona in inglese sarà sempre quella cosa là e sarà tutta la ricchezza di chi si avvicina al testo in originale ma in traduzione perché deve parlare il Giovane Holden con la lingua dei nonni italiani il Giovane Holden non ha non ha un senso in questo senso l'edettore deve stare accanto ai proprietori e accanto all'opera deve aver cura in interrotta della cosa questa io credo che sia la forma più alta delle lingue non quello che cambia la singola frase la frase che ieri è venuta fuori era quella di Adorno l'attualità del saggio e l'attualità dell'anacronismo anche questa è una forma di editing non è vero che sempre è l'editore che si fa i problemi nella diffusione del libro del pubblico molto spesso sono introiettati dagli autori e allora una forma di editing è quella di difendere magari con progetti o con intenzioni anche che interpretano ingenuamente non propriamente ma è quello che va adesso è questo quindi io mi metto a far questo allora se l'editore ha nella testa per quanto riguarda i saggi quella frase di Vene cioè la qualità del saggio e la qualità dell'anacronismo deve invece invitarlo a trovare la strada critica che caratterizza il nuovo che sta dentro la ricerca e non lasciarlo mi verrebbe da dire adeguarsi alla quotidianità della qualità creativa della qualità giornalistica della qualità della qualità che finisce che finisce col minuto col minuto presente ecco stare anche questo secondo me è un'aver cura un'aver cura dell'autore un lasciare di fare uno spingere da fare il suo mestiere lasciare all'editore il compito di portare il libro in giro insistere sul fatto del nuovo del suo pensiero che deve essere sganciato dal brillio della novità che cade per quanto io riguarda Enari molto spesso si è parlato di progetto il progetto per venire alle collane per introdurre il discorso sulle serie sulle cose il progetto della casa edificia il progetto della collana io credo che sia più esatto parlare di responsabilità come parlavamo ieri del proprio oggetto e di intenzione dell'autore in giro Einaudi nel suo intervista diceva tutta la vita mi hanno rotto le scatole con questi del progetto ma ce l'hai un progetto cosa devi fare il progetto ero ossessionato qualsiasi cosa facessi o facessi ma il progetto di questa cosa qua qual è ecco lo stesso Pavese in un Einaudi aveva quel profilo di Pavese però è stato fondamentale come direttore editoriale dell'Einaudi nel 48 fa un'antologia da quale si guarda il catalogo guarda indietro gli anni passati e lo commenta ed è lì che lo definisce ma guardando le cose che abbiamo fatto l'intenzione prima era quella di interrogare come dire la libertà ovviamente perché in tempi del regime la libertà delle idee della libertà critica del lettore poi abbiamo cominciato ad aprire ad altri temi ed è lì che parla di scrivendole in audio usa l'immortale frase della concordia di scorde del catalogo del 48 è una cosa che possiamo tirare tranquillamente fino al 2013 che è rimasto uguale quindi anche lui anche Pavese anche il direttore editoriale Pavese che era un'intelligenza di una vivacità e di una continua di un'intelligenza che tendeva continuamente a sparigliare le convenzioni che già allora si rischiavano come dire di moltiplicarsi sulla casa elettrice anche a lui sta stretta l'idea di progetto come applicazione definitiva di un qualcosa di predeciso e di predefinito una volta ne parlavo con del giudice a proposito del progetto del libro del progetto del romanzo del progetto dell'opera e che credo questa sia la definizione più esatta anche per il lavoro editoriale il progetto è importantissimo è come scrivere con due mani è come se si scrivesse con due mani una che scrivono contemporaneamente una definisce il progetto e l'altra mentre scrive lo smonta è come se le due cose procedessero con due mani contemporaneamente alla fine c'è l'opera che non può prescindere da un progetto ma che non deve come dire eseguirlo banalmente questo vale anche credo per il lavoro dell'editore più in generale allora gli esempi concreti nel 2002 esce il primo volume di una serie che continua ancora adesso sia pure molto una serie che ha dei intervalli di tempo considerevoli all'interno dei saggi che è la mitologica di Maurizio Vecchini il progetto allora iniziava dalla discussione su un libro criticabilissimo come è criticabilissimo l'intenzione della serie che era Le Antigoni di John Steiner un libro che ripercorreva diciamo per dirlo in una parola la storia culturale degli Antigoni dalle discussioni e dalle critiche anche che nascevano a quel lavoro a quel lavoro lì nasce l'idea di comporre costruire dei libri che si provano a fare tre cose a raccogliere la sfida ogni volta che era affidata a Carriera Capettini di raccontare un'altra volta il mito con una parte introduttiva sostanzialmente questa la parte grossa la parte importante del libro che invece è la storia culturale e critica appunto del mito attraverso i secoli fino alla contemporaneità una terza particolare oppure in maniera molto sintetica che provo a fare lo stesso ragionamento dal punto di vista iconografico dal punto di vista appunto delle immagini e dell'opera questo era un modo per interpretare e far affrontare in un modo dove sono un'originalità in un senso particolare tutto l'universo appunto del mito cioè sono citi su Enem su Narciso adesso ultimamente quello su Enea e così via era un modo semplicemente di cercare qualcosa che nasceva all'interno della calentizia non qualcosa che si traduceva o che si prendeva era un lavoro come dire in interrotto ecco che poi risultati eccellenti ma va discusso come intenzione appunto dell'editore di far lavorare di provocare la cultura e la proprietà se volete una cosa tenue nel 2003 invece nasce un progetto più più complicato a mio parere anche per la storia che ne ha in Auli la collana si chiama Le Vele è una collana particolare perché ha dei precedenti importanti in caso di Cricio nuovo Politecnico è un precedente con cui chi vuole fare pensare a una nuova serie deve fare di questo tipo deve fare i conti naturalmente cioè non deve riproporare ricercarlo paro 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 deve capire che cosa quella serie parlavamo ieri della serie politica dicendo che va benissimo quella cosa lì e va benissimo che la serie politica un bel momento finisca con l'urgenza che l'ha determinata con i temi che l'hanno generata proprio perché coscientemente si dedica ai temi politici è giusto anche che quando finisce con l'urgenza finisca la serie c'era stata una serie di poco precedente che era Einaudi Contemporanea che non aveva trovato questo non aveva trovato una sua differenza nei confronti delle altre serie di saggistica che aveva Einaudi e forse non aveva fatto i conti bene con il nuovo Politecnico quando si parla di una serie si parla di vincoli esterni di vincoli essenzialmente esterni che sono per quanto riguarda la brevità la scrittura ieri dicevamo il come il come a proprio argomento diventa un modo diventa un elemento fondamentale nella costruttura del saggio nella scrittura del saggio diventa una volta che i campi non sono delimitati con il rigore di una dimostrazione scientifica allora il momento dell'espressione della scrittura la precisione Adorno diceva Benjamin in questo era un maestro diventa un elemento fondamentale l'autorialità che è uno scopo molto più complesso dell'autorità è anche qui un elemento determinante del saggio e fatevelo dire riassumere così poi ce ne può discutere una concezione nel senso che intendeva Adorno una concezione anofronistica dell'attualità non farsi necessariamente trasportare dall'attualità cattiva e allora vengono fuori i libri indicati alla differenza cristiana al classico a temi come credere e curare al pudore all'ambiguità all'idea di patria all'idea di storia e l'estino non tutti i libri sono così naturalmente poi l'attualità invade in certi casi però l'idea l'intenzione della colana è esattamente questa cioè quella di strappare l'urgenza dei temi delle cose all'attualità immediata tutte queste vanno giudicate come intenzioni come disegno e profiorali che vuol dire che non c'è quel libro e non debba esserci quel libro necessario per questo specifico tema ma generalmente si spinge o si prova a spingere o si costruisce insieme con l'autore sia la scelta del tema sia il modo dell'espressione il modo della scrittura cercando di interrogare così la propria contemporaneità cioè provare a trovare a trovarla non a seguirla ma a trovarla ultimo esempio di qualche anno dopo la situazione non migliora in situazione generale le cose di poche peggiori ma sicuramente si complica si diffonde un saggismo di diciamo giornalistico anche di denuncia che svolge senz'altro il suo la sua cosa il suo il suo compito ma non aiuta la trasformazione del pensiero che cosa si prova a fare c'è una definizione anche qui editoriale tipo troppo italiano o troppo cosa si può fare nel senso è un anglosassone di questo tipo di libri che caratterizza la collana che piglia il nome non a caso di frontiere la definizione diciamo editoriale banale è quella di narrative non fiction già l'idea di non fiction è una cosa che mi fa mi provoca qualche disturbo figurandvi quella di narrative non fiction l'intenzione vera è un'altra è quella di alimentare un saggismo che certo è spinto ancora di più verso gli elementi della narrazione ma una narrazione che secondo sempre le parole di Marias è e deve rimanere anche nel romanzo più in fiction un modo di pensare una narrazione non di intrattenimento ma di conoscenza e di esperienza un pensiero che si pone fortemente il problema del come delle idee e dei concetti e che quindi inevitabilmente come questo dicevamo ieri tra poi i due saggi in generale autoriflette l'autore viene spinto a mettere in scena una configurazione di conoscenze storiche teoriche di esperienze etiche ed estetiche che abbiano al loro centro un'idea un concetto e alla fine inevitabilmente una visione del mondo alla fine ciò che emerge dall'inizione della serie da quello che viene fuori a vederla sinteticamente come un insieme cosa che una collana non è mai eccetera eccetera cosa così c'è lo prima una serie in cui i narratori diventano saggisti all'idevamo ieri alla qualità saggistica dei saggi di un David Foster Wallace piuttosto che un Franzen e che i saggisti diventano diventano narratori non con un autocompiacimento ma usando elementi del come della narrazione per arrivare all'idea a cui vogliono arrivare al nuovo a cui tendono un racconto che pensa è un pensiero che racconta mi domando e chiudo per lasciare poi se volete la discussione è un adeguarsi questo alla cattiva attualità io non credo non credo nella maniera più assoluta questo tipo di intenzione saggistica non è una cosa che riguarda soltanto Leonaudi o solo l'Italia ma attraversa molti autori sia in ambito anglosassone che in ambito francese e così via non è affatto un'adeguarsi alla banalità del tempo ma è indubbiamente come dicevamo ieri che esistono proprio gli anglosassoni che sono sempre esistiti dei pericoli vi ricordate la superficialità l'illettantismo filosofico è evidentemente un pericolo facendo queste scelte si sceglie un percorso di kinamen proprio e su quello è necessario restare del pericolo bisogna avere continuamente coscienza perché è proprio lì che entra in gioco la discussione dell'editore con l'autore e viceversa quella aver cura l'un dell'altro voglio dire che alla fine caratterizza questo mestiere si tratta di insistere di provare dei percorsi nuovi che non sono libri nuovi perché come dire il saggismo è sempre esistito oppure questo di ricerche di percorso è una cosa che ha ospitato e ospita infinite opere ma cercare di spingerlo come progetto all'interno di una contemporaneità che grossomodo credo sia rilignata come avevo descritto credo che sia il massimo che un editore può fare in dialogo con i propri autori buono grazie 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 ecco niente volevo solo fare un'osservazione diciamo sulla parte più legata alla contemporaneità del formassaggio che diciamo si narrativizza che c'era la formassaggio che assume un taglio prettamente narrativo perché poi è la cosa che accomuna i saggismi di Tranzan e di Wallace e che spesso sono costruiti come come storie storie per usare un'espressione brutta non funzionali perché Wallace o Franzel che in cui una persona parlano osservano il mondo e fanno riflessioni saggistiche però configurate come delle storie e diciamo questa è che mi sembra una forma abbastanza peculiare diciamo della letteratura più recente che poi è stata ripresa anche da certi autori italiani per stare all'inautica Pasquale che ha fatto le cose più interessanti proprio da questo punto di vista e niente volevo sapere se a lei sembra che ci sia una peculiarità saggistico narrativa che distinta al romanzo saggio perché è appunto non funzionale e diciamo che che potenzialità che interesse ha per lei questa particolare diciamo forma io credo che sì anche lo senso pascale ma anche perché poi qui stiamo parlando di un aspetto molto definito nel senso quello dei narratori che sono anche saggisti questo mi interessa con una parte il problema interessano moltissimo i saggisti che mettono alla prova a se stessi cioè che non si che non che non 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 si chiudono nella nella difendina ma che aprono ecco cosa che i narratori possono fare in una maniera molto delimitata dicevo ieri l'importante è che il saggista tutti voi dicevo vi pensiate come scrittori ecco questa mi sembra la cosa la cosa fondamentale il fatto della narrazione o dell'io e del raccontare la ricerca e il fatto dell'esperienza è fondamentale tanto per non cadere nelle trappole di cui parlavamo anche ieri che sono trappole di banalità che sono lì a portata a portata di mano e che l'io che narra al di là di essere un ottimo strumento per poter raccontare le cose ma non come diceva ma non ma non soltanto questo deve essere semplicemente come proprio davvero il Montaigne l'indice di quello scetticismo di quella noncella nei confronti della definizione definitiva una volta per tutte dei saperi che informa il percorso del saggio fin qui e se usato così l'io che racconta diciamo è uno strumento è uno strumento fra gli altri certo è uno strumento anche di una certa abilità perché del tremolio delle parole che tremolano ma non riescono neanche a dirvi perché tremolano non me ne frega niente come a nessun lettore sull'altro piatto della bellanza ci deve essere quella che ieri decinevamo la responsabilità nei confronti del proprio oggetto che va conosciuto a fondo e che si deve rispettare in quanto tale quindi come discipline che consentono di arrivare di definirlo in modo scientificamente superiore e la responsabilità e la responsabilità e la serietà nei confronti del proprio percorso di conoscenza parlare come diceva Adorno di persone per parlare di persone una cosa anedotica si può essere gradevole dicevamo il saggio non è lezviro gradevole e ben scritto non basta questo al saggio e sa chiudere tendere a una a una verità che sa benissimo non essere definitiva che mette in scena questa non definitività della verità puoi tendere ma deve avere questa caratteristica altrimenti scivola altrove scivola nell'anedotica scivola nella era musica che diceva nella cosa giornalistica che sfrutta il tesoro del saggio ma non accresce questo tesoro e l'accrescere o sfruttare si fa in termini di tensione ad una conoscenza ad una verità questo mi interessa anche nei percorsi dei narratori che ci dà questa generazione qua di narratori americani o meglio ancora forse da questi singoli narratori che hanno anche una statura di saggistino trevolissima è anche un'attività continua non è che per caso hanno messo insieme le loro recensioni loro interventi di qua di là ma no ma pensano a un percorso come alternato tra la costruzione nel caso di Foster Wallace e di Franzen di romanzi e di libri e di saggismi e di libri di saggio adesso prossimamente il prossimo libro di Franzen si intitolerà l'esperimento Krauss ed è un commento traduzione dei saggi di Karl Krauss che lo accompagnano da una vita per dire cioè non è una cosa occasionale ecco questo non è un episodio del loro percorso ma è una linea del loro percorso si cioè proprio per quello che sembrava che adesso con una loro in realtà di diciamo narratori saggisti che invece manco un po' non vedo molti scrittori di questo tipo in Italia almeno narratori che appiantano un'attività di saggistica diciamo militante abbastanza intensa magari no no non mi sembra non mi sembra di quella generazione io non mi sembra un saggista che si è fatto un narratore che è Claudio ma ha fatto percorsi in verso però no non c'è una intenzione una presenza così ecco poi con delle individualità così importanti direi di no non mi sembra mai anche lì è un percorso tipo di Walter City italianista e poi quella di adesso italianista qui e poi invece narratore che ovviamente ha visto che è Walter City poi fa anche questo documento ultimissimo brevissimo mi ricordo più ecco surrealismo ovviamente è perfetto però è una cosa diversa ancora un'altra storia sì non è proprio un saggista un critico letterario è un po' diverso avrebbe incuriosito e chiedo su questo il fatto che lei abbia stato indicato negli ultimi 4-5 anni un tracollo del consumo di un certo tipo di narrativa mi sposto tra le dati mi piacerebbe sapere perché la disposizione sembrava che fosse colpa della rete però non so se ho capito no allora che sono fatto capire male no 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 io credo che sia un non lo so partiamo dalla verità non lo so poi faccio delle supposizioni è tutto basate su poco e niente questo però non accade accade in maniera quasi radicale partiamo dagli indici che lo trasmettono gli indici che lo trasmettono sono le classifiche dei libri più venduti no che riguardano il territorio nazionale tutto il territorio nazionale non quello che succede a Roma a Pisa o a Milano ma insomma una media di queste cose queste classifiche sono caratterizzate come sempre dai libri più semplici dalle cose più d'attualità e però hanno una presenza fino diciamo al 2000 fino diciamo al 2008 2009 una una presenza sì quegli anni lì più o meno una presenza importante di autori che hanno un valore letterario autonomo rispetto alla lingua in cui scrivono rispetto agli eventi dell'attualità eccetera non sono naturalmente ai vertici dove leggere allora come adesso voglio volo voglio dire ma sono e sono presenti non solo di un editore ma di diversi di diversi editori almeno di tre o quattro editori e questo è lo stato del negozio l'indice cambia da un anno all'altro quasi in maniera radicale l'editore addirittura qualche problema interpretato perché già tutti i piani degli anni dell'anno fatti e così via però questo c'è e questo non riguarda il nuovo Leinaudi o un editore ma riguarda in generale tutta l'editoria quindi riguarda come dicevo prima sì sono sempre problemi dell'editore però i problemi dell'editore sono un sintomo proprio di superficie di quello che poi accade nella nella cultura nella trasformazione della sensibilità della contemporaneità questa cosa cade verticalmente a favore naturalmente di quelli che sono diciamo più generalmente nella relativa di intrattenimento viene da pensare certo la gente che torna a casa non ha più voglia di avere dei problemi ma nel senso anche positivo cioè di di pensare ecco arriva stremata si vuole accompagnare alla fine della giornata vedendo quello che non è una grande non è una grande spiegazione c'è una crisi che devasta tutti i consumi comprano spaghetti e comprano libri c'è stato un cambiamento del consumo degli ebook questo settembre non una cosa progressiva gli ebook andavano moltiplicando il proprio numero anno per anno con numeri percentuali spaventosi ta con settembre c'è stata una gelata e quindi tutto il meccanismo che funziona il centro sociale di come dire i grandi lettori come sappiamo tutti benissimo non è la categoria esattamente dei miliardari ma sono i centri medi che sono quelli più colpiti da questa crisi generale i dilettori forti non sono non è che hanno le biblioteche nei loro panfili ma le hanno le biblioteche nelle loro carte sono e allora tutto questo insieme di cose cioè la crisi generale dei consumi la paura secondo me che si arpeggia profondissima nella società e di cui noi non abbiamo noi la sentiamo ma non ne abbiamo affatto la percezione mi raccontava ve la racconto perché anche questo mi ha fatto cioè mi dà mi dà la dimensione della grandezza delle cose qualcuno dice ma con questo dice queste cose per poter possiamo dire al bar è vero però questo non è detto al bar questo vi mi raccontava Marco Revelli che sta facendo un percorso nell'Italia di oggi che si trasformerà appunto in un libro questa cosa che è venuta a Torino dietro a Portasusa quindi è un Torino periferia c'è una rostricceria fondata negli anni sessanta che celebra i suoi cinquant'anni di attività commerciale è una bella idea per un giorno vi mettiamo il pollo a rosto al prezzo degli anni sessanta e dovuto intervenire la polizia da tutto quindi costavano cinquanta centesimi i polli quel giorno lì hanno dovuto promettere per questione di ordine pubblico che ce ne sarebbero stati duemila anche l'indomani la cosa sarebbe prolungata allora questo non accade lontano da noi accade qua dietro lontati l'angolo usciamo dalla scuola normale giriamo l'angolo e c'è la rostricceria che fa questa cosa qua eh? andiamo subito scusa 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 no ma è piaciante tutto questo insieme questo insieme di cose credo che abbia che abbia presentemente è intuito su ciò il lavoro del lettore è quello di lavorare all'anacronismo all'attualità dell'anacronismo la tua ricerca deve essere quella e non adattarsi alle cose perché deve lì dentro trovare una necessità che c'è e che rimane una necessità intellettuale e di sensibilità che rimane altrimenti dice quello senti la settimana scorsa io ho ricevuto nella posta due libri e da questa adiacenza mi ha fatto sospettare qualcosa che vorrei provare a dire uno è un libro in Audi e l'altro no ma è di un'autrice che è stata in Audi uno è un libro di Piccolo questo è Francesco Francesco Piccolo che lo conosco il desiderio di essere come tu dicono a Frasi di Natalia sì che è una Frasi di Natalia e che utilizza per la parola tutti un famoso titolo di Unità per il funerale di Perlino e questo libro ne ho letto più di metà è molto interessante racconta la sua vita o non so io non lo conosco quindi non so quanto è una storia o una narrazione è una narrazione di una vita possibile che forse è la sua e forse no condivide in due parti la vita pura vera in guerra la vita in cura vero suono cioè due pezzi della storia e l'altro libro invece è un libro di Rosetta pubblicato da Chiare Lettere che si chiama Gli anni in feccale e il lupo che prende gli anni del 1970 più o meno o forse un po' prima e anno per anno fa una cronaca che è una cronaca di eventi che sono che so io la morte di Mattei la morte di Alza Fruttale eccetera eccetera e in cui però ci sono degli insetti narrativi questo ancora ho cominciato solo a fiutano allora in questi due casi invece si tratta di due narratori che invece fanno cronaca che invece anziché la narrazione puntare sull'anacronismo puntano sul presente puntano sul raccontare presente in una forma che non so se sia narrativa o saggistica e si intride dell'una e dell'altra cosa perché entrambi hanno evidentemente voglia di incidere sulla realtà presente con una con una diciamo con una implicita o esplicita voglia di far politica di un momento in cui la politica non c'è allora questo non è una frontiera indiscutibilmente sì sì credo che i due libri sì i due libri hanno questo al di là di come poi lo realizzano come progetto hanno hanno questo in comune la cosa che per esempio Piccolo l'intenzione voglio dire che poi emerge non so se sei d'accordo nel libro di Piccolo non importa se poi però appunto proprio quegli episodi sono suoi personali non è importante perché se avesse importanza sarebbe un meno del libro e non invece è un libro molto forte perché lì c'è proprio come dire l'intenzione di dire quanto la vita privata sia pubblica in realtà o il contrario naturalmente ma non come manifesto politico ma come determinazione proprio quotidiana per cui questa bellissima definizione lui sceglie di sposare la sua moglie perché lei quando viene letta da Brustoni dice che sarà mai tutti tristi e allora questa voglia è molto buffo molto comico questa cosa qua e racconta e racconta questi titoli secondo me sì sì certamente lì è uno fronte è molto forte quando è quando i dottori fanno così quando il dato personale non è solo personale ma è un dato soggettivo è un dato soggettivo che serve per raccontare l'età della purezza più o meno ambigua l'età dell'impurezza più o meno ambigua quando serve non evidentemente come cosa anedotica ma serve come figura di un'epoca è un voler tornare a parlare non semplicemente riportando le cose che avvengono ma come raccontando il percorso di una soggettività come cambia come cambia la nostra coscienza storica nel medio degli ultimi anni questa è indubbiamente è indubbiamente una una frontiera una frontiera è interessante in piccola anche l'uso che lui fa non so se per esempio di un racconto di Carver all'inizio era proprio allora quello è altrettanto interessante perché allora non è oddio il narratore che si mette a citare la letteratura che parla a dirlo come è noioso no il libro come il volto di un amico il libro il racconto mi cambia la vita come se io incontrasse una persona concreta valgono uguale allora è completamente diventa davvero questo sì che è una frontiera nel senso saggistico che si diceva cioè il libro vale non come una cosa meta assunta sopra quella che è l'esperienza l'esperienza della vita ma è è una forma come si diceva ieri quindi non un dato naturale dell'esperienza è una forma complessa che però mi cambia entra nella mia vita esattamente come l'incontro con un volto amico o come il dissidio con un volto con un volto nemico allora quella ecco mi 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 sembra molto interessante mi sembra molto interessante come per passo ulteriore tutto il resto in qualche modo c'è già qualcuno l'ha fatto meglio qualcuno l'ha fatto peggio ma questo considerare appunto le forme le forme della letteratura le forme dell'arte come un dato di esperienza come ecco questo cambia veramente le cose questo è uno di quei casi in cui il saggio in cui ci sono i tempi c'è le berri i musili eccetera ma nella contemporaneità è uno di quei casi in cui il saggio il saggio viene ospitato dentro una forma che è quella del romanzo e anche questa carsica o emergente è una tradizione del saggio vera potente insomma che sta dentro la cultura occidentale mi sembra arrivo a dire poi lui lì mi pare che sia particolarmente bravo per tenuto in questo modo di cover in modo molto acuto come tu hai detto ma per narrare come lui diventa superficiale esatto lui usando molto a fondo la letteratura dice così sono diventato superficiale mentre non lo è e quindi ottiene secondo me un'efficacia un'efficacia retorica molto alta esattamente sì se proprio questo uso di poi poi giverà un film cioè non è un'occasione particolare del libro ma è proprio un'intenzione che sta dentro quelle quelle idee di libro e questo sì questo è molto importante chiederei approfondimenti perché ha citato per inciso il concetto di autorialità e come diceva un concetto molto complesso perché nel novecento insomma gli autori sono morti un sacco di volte l'autore è morto un sacco di volte poi è anche rinato però è anche rinato anche come un feticio commerciale speso e poi il saggio si diceva anche ieri è radicato nell'io in un certo senso però allo stesso tempo dentro il saggio parlano anche diverse voci perché la prossimità dell'autore rispetto magari ad altri autori di cui parla come si diceva ora fa sì che ci sia un po' una diffrazione del principio autoriale faceva riferimento prima all'autorialità come una funzione conoscitiva appunto oppure anche a volte magari anche soltanto come una strategia di attribuzione diciamo così di alcuni discorsi non so no più come una strategia conoscitiva direi no un'attribuzione di in questo senso diventa finita la discussione per cui esiste solo il testo in un lato indipendentemente da chi l'ha scritto che pure è stata come dire anche una concezione diffusa no un mondo è frequentistatissima che ha dato anche dei risultati storicamente importanti e tutto finita l'idea invece del parlavamo parlavamo ieri di chi di Grimo di Saint-Boeuf voglio dire dell'altro opposto cioè tutto così nel raccontare nel racconto nel racconto dell'autore nel racconto di chi era l'autore ha finito questa contrapposizione per cui all'una serviva negare radicalmente l'efficacia dell'altra per affermare per fare a se stessa allora si 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 secondo me si raggiunge un punto di verità che è l'intreccio delle cose di nuovo che è molto caratteristico del saggio secondo me nel senso che parlare dell'autore o del concetto di un autore può essere trasformarsi in una funzione appunto per cui si autorizza viene autorizzato un discorso oppure in un ricorso anedotico che non ha nessuna importanza nessun rilievo oppure rappresenta una l'autore viene utilizzato come configurazione che l'autore lì mi interessa per quello che non è la sua vita per la configurazione di senso e di significati che rappresenta non è semplicemente una fonte semplice dalla quale nasce l'opera ma è una configurazione complessa che genera l'opera e che io non posso non tenere il conto o meglio se ne tengo conto si arricchisce il mio percorso di senso è una forma di responsabilità rispetto all'oggetto su cui concentro la mia attenzione non che non può essere unica naturalmente perché lì rimango fregato dalla mia stessa scelta ecco questa idea della responsabilità nei confronti dell'oggetto del proprio discorso come teoria ed espressione sembra una coda vaga oppure forse troppo astratta ma in realtà è la prova del nome la cartina di tornasole sul quale uno può decidere ma questo è un saggio come si deve quest'altro ma fa finta non è che non si possano dimostrare scientificamente queste cose il saggio è talmente una cosa senza limiti vaga è tutto per cui boh a mio gusto questo è buono e a mio gusto questo invece non è buono non è vero non è vero si può con un po' di tempo perché come si dimostra la sua volta la crea di mostrare che questo non sta in piedi fa finta e dice questo c'è un percorso c'è un percorso vero ecco questo è una cosa che deve rassicurarci secondo me nel senso che non sono discorsi campati per aria ma hanno proprio dei ganci nella cultura e nel nostro sapere potenti ed efficaci posso riprendere una questione che riguarda il modo in cui scriviamo i saggi e cioè appunto la presenza o meno dell'io dell'io che ha avuto il saggio nel senso che parlavamo di Grimlett ad esempio lui lì comincia dicendo appunto che è un'estate ha finito l'università per caso trova delle ronature su una bancarella appunto un cliname in un momento così occasionale della sua vita e di lì poi quindi rispetto alla nostra tradizione il fatto che lì di scrivere il saggio entri così prepotentemente da fastidio anche perché la nostra idea di saggio è un'idea in qualche modo era un'idea scientifica nel senso che le cose che io studio sono lì io come io come io come osservatore disinteressato non esisto no potrei essere una macchina e sicuramente smonto il mio oggetto di analisi e connessi i risultati ecco io credo questo cioè che da un lato è chiaro che il rischio del compiacimento narcisistico no quella dimensione della narrazione di che scrive il saggio che pensa dentro il testo è sempre presente è chiaro sempre l'altro lato però forse è un modo come dire anche di dire noi non crediamo più almeno proprio non crediamo più appunto al fatto che raggiungi una verità cioè mi ricordo certe storie della critica di un autore che è una lunga storia di errori o almeno di approssimazioni al vero poi finalmente si capisce tutto no sostinteso che io alla mia scuola ne ho capito tutto ecco che era come dire una deformazione poi a parte della megalomania accademica ma dello storicismo cioè c'è un'approssimazione allora diciamo nel momento in cui questa idea fortunatamente è andata in crisi viene più come dire alla superficie il problema anche dell'osservatore del metodo no che tu che tu usi e credo che questo sia sia come luce alessandro quindi la messa in scena del metodo e anche la messa in scena la loro narrazione di te che non sei più l'osservatore scientifico distaccato ma sei a tua volta dentro la storia ti confronti via via con i risultati con i problemi della ricerca visto che abbiamo osservatore che mi ricordo anni fa quando ho detto la tempesta interpretata è una cosa che mi era piaciuta proprio questo cioè quando lui si interrogava sull'iconologia su come si arriva a provare a interpretare un quadro un'immagine complessa e faceva il paragone del puzzle in cui ci sono diverse tessere che devi cercare di mettere insieme a disegno quello era molto stimolante per me cioè in altri termini è chiaro che come dire il raccontarsi raccontarsi come il ricercatore rischia di essere il comportamento narcisistico ecco però forse uno dei modi anche per rendere più umana con la complicazione della ricerca è di dire che problemi che ci sono dire che nessuno ha la chiave in mano ma come dire forse anche questo cioè di mettere in scena via via che cosa che cosa ti chiedi che cosa ti fa vedere un certo metodo no? che cosa non ti fa vedere non lo so ecco questo è un po' legato direttamente anche l'esperienza di lavoro ma anche certo secondo me questa è la parte più affascinante del percorso saggistico ieri non l'ho raccontato ma Luca c'è un racconto che rende bene questa cosa qua diceva che il saggista è un po' come il parlante in una lingua straniera senza dizionario e quindi non può andare a cercare sul dizionario il significato di quella parola lì ma lo stabilisce il significato di una parola sconosciuta appunto dell'oggetto di ricerca da il confronto di 50 accorrenze differenti alla fine riesce a dare e alla fine quindi deve incontrare deve fare l'esperienza di questo nuovo che sta all'interno di 50 accorrenze differenti e alla fine domina molto meglio il significato di quella parola lì di chi applica direttamente come dire la definizione del dizionario allora ecco siccome è un racconto molto efficace perché sottolinea l'importanza l'importanza non soltanto come dire il ricorso all'io che fa l'esperienza della ricerca all'io che è un io non un autentico assoluto anche lui ma è una determinazione storica quindi è quell'io in quel momento storico che fa il percorso di cercare non è neanche soltanto un'astuzione narrativa si è un oggetto molto utile per raccontare figuriamoci non basterebbe cadi immediatamente nel narcisismo della cosa ma è uno ma è uno strumento ma è uno strumento è benenotico vero cioè è una funzione precisa allora lì lì non c'è pericolo come dire anzi è un oggetto in più che fai funzionare nel meccanismo nel meccanismo nel meccanismo ermeneutico che è contemporaneamente anche e perché no uno strumento molto utile per raccontare come sanno come sanno tutti i narratori sposa queste due cose qua certo se se utilizzi soltanto uno strumento molto utile per raccontare puoi cadere nella trappola puoi cadere nella trappola non ciesce più e rischi di vuol dire fare una cosa leziosa nazilistica o peggio ancora un libro inutile che non fuggono l'interesse di nessuno ma se le due funzioni si uniscono ecco secondo me è quello proprio il respiro del saggismo il respiro del saggio ecco ed è ed è quello ed è quello che ha parlando l'editore un pubblico inevitabilmente una delle cose che aggancia il lettore non è vero come dicono le altre non ci sono più lettori di saggistica non è vero non è non è tanto vero è semplicemente un interlocutore da continuamente andare a cercare mette in scena quella che ha l'esercizio spirituale il dialogo mettono in scena l'esperienza intellettuale questo non è poco perché immediatamente il terzo che tace e ascolta è il lettore e sta dentro quell'esperienza intellettuale che il saggio prende come modello prende come modello ecco è a differenza della comunicazione di un sapere ti informo di questa cosa posso dire una cosa su questo punto che suscitava lì nella ricorrenza sempre più frequente dell'io narrante dentro la saggistica c'è però anche una componente diversa io credo e cioè c'è la spinta decostruzionistica e di un'altra che hanno cominciato a dire voglio sapere chi sei e perché sottieni questa frase perché tu raccogli le cose così perché sei tu hai un bias di questo tipo io non mi ero mai accorto di questo fino a quando una volta mi ero mai accorto per pensare negli Stati Uniti e una volta qualcuno mi ha detto tu scrivi hai scritto un libro sul tuo gioco quello perché sei di questo tipo mi ha detto favoreva come mai ho indicato un'interazione ora questa cosa qui è partita per scoprire le carte dell'autore onde diminuire rispetto a una teoria di costruzione sia per cui tutto qualsiasi narrazione equivale a qualsiasi dopo di che mi è stato fatto un uso molto però io credo che certi abusi che sono fatti certe volte che in una certa saggistica prima americana poi anche uno strato quando uno parla di sé senza più remota necessità di farlo non in funzione credo che risentano di questa moda francamente a mio avviso un po' all'origine perversa ne sono certissimo ne sono certissimo infatti è proprio una delle trappole che si aprono su un atteggiamento un atteggiamento saggistico che ha da una parte un percorso di ricchezza enorme perché tu aggiungi con l'ios del saggistico se funziona come veicolo concettuale diciamo metti in gioco una maniera di significati se può fare dall'altra parte c'è la trappola dentro la quale appunto se cade dentro la quale addio la cosa diventa sì l'altra trappola del saggio che ha un atteggiamento di nonchalance che ha un atteggiamento scettico nei confronti dell'assoluto del sapere è come in ogni caso di relativismo il relativismo come verità assoluta che scavallo dall'altra parte e allora lì siamo al gioco dell'impoverimento dei valori concettuali ecco allora lì quello però è vero che non si sta mai tranquilli con il saggio sono c'è una domanda il mio protagonista avrebbe pensato la camera chiara infatti questa grande ricostruzione la storia la fotografia poi si conclude con questo incontro e ricordo della madre oppure appunto un periodo decostruttivo storitelio diciamo l'ultima costruzione dell'idio che entra nel saggio cioè l'esperimento in burghiano ottimissimo in cui sostanzialmente appunto il personaggio io entra nel saggio ma soltanto appunto per uscirne per evitare semigliatamente la sua ricerca parte quindi da un fallimento unico dell'idio cioè raccontare io comincio la mia ricerca digitando su google un'epoca un testo l'oggetto il primo oggetto che mi compare quello diventerà diventare il soggetto del mio saggio questo tempe semplicemente appunto per cercare di cassare completamente la presenza della soggettività far diventare l'oggetto l'unico e solo oggetto casuale una ricerca cioè diventare naturalmente di appunto tagliare quelle che possono essere le influenze e i pregiudizi di chi osserva sostanzialmente in realtà c'è appunto una casistica estremamente anche possibilità attraverso la cosa di gestire di partecipazione di un'idea sì sì questo è una ricchezza che a cui il saggio apre ecco la scommessa è il gioco bello per il lettore per tutti noi quando siamo lettori e anche questo facevo un raffronto insomma ieri con i vincoli che il narratore si dà che non sono vincoli dati dall'esterno ma sono vincoli ai quali deve rimanere coerente se vuole che il lettore lo segua non sono vincoli dati da una necessità identico meccanismo diciamo di costruzione secondo me è quello che pertiene e spetta al saggio bene grazie molto bene ah scusate volevo ricordare agli studenti martedì prossimo riportare spesso l'attività liberale grazie grazie grazie